Grazie mille, io sono Massimiliano Granieri, sono professore di diritto, nessuno è perfetto, però quando ho capito che non ero perfetto era troppo tardi per saltare sulle materie tecniche, quindi mi sono tenuto questo difetto genetico, diciamo. Però da tanti anni mi occupo di trasferimento tecnologico, dicono che sono un veterano, poi ho capito che è un modo elegante per dire sei vecchio. Dal 2001, prima all'Università della California, all'Ufficio di Trasferimento Tecnologico, poi per una parentesi di tre anni, poi sei anni alla Fondazione Torino Wireless, ero responsabile di tutta l'area proprietà intellettuale e trasferimento tecnologico, di là abbiamo fatto poi uno spin-off che si chiama Mito Technology, che oggi gestisce un fondo di investimenti che si chiama Progress Tech Transfer nell'ambito della sostenibilità, quindi diciamo scientificamente e professionalmente ho visto un po' tutto lo spettro delle attività che servono per il trasferimento tecnologico e oggi il tema sarà appunto la fase di sfruttamento dei risultati della ricerca attraverso gli accordi, accordi di sviluppo, di licenza, di proof of concept, poi vedremo anche gli accordi sulla tutela della riservatezza, perché prima o poi, e credo negli ultimi tempi più prima che poi, chi fa attività di ricerca è sempre più a contatto con un momento in cui bisogna cimentarsi con degli aspetti negoziali, contrattuali, e benché di queste cose si debbano occupare i giuristi legali, ogni istituzione nostra ha un ufficio che più o meno si occupa di queste cose, in realtà i legali non sono altro che dei sarti un po' specializzati che fanno degli abiti su misura, ma il dentro dell'abito lo fa necessariamente chi ha il dominio della materia. Dico questo perché non c'è niente di peggio che mandare a negoziare anche cose molto semplici al legale che è completamente disconnesso dalla materia che sta gestendo. E quindi purtroppo per voi, facendo questo mestiere, bisogna anche un po' capire la logica che c'è nell'accordo dall'altra parte per poter indirizzare, guidare questi processi. Noi parliamo di sfruttamento dei risultati attraverso gli accordi, immaginando, e secondo me è un'immaginazione sbagliata, che il risultato sia alla fine di un percorso, si dice a valle dell'attività di ricerca c'è un risultato che poi noi trasferiamo verso il mercato, con tutte queste attività di cui avete sentito, sentirete parlare in questi giorni, come se il risultato fosse la fine di un percorso. In realtà questo è vero soltanto descrittivamente, perché il risultato, come sappiamo bene, in realtà è la fine di un percorso, ma anche l'input del percorso successivo. Quello che oggi è il background, quello che oggi è il foreground, che viene da un'attività di ricerca, domani è il mattoncino sul quale costruire dell'altro. E purtroppo questa concatenazione dei risultati crea un livello di complessità che bisogna saper gestire. Ora, quello che io, quello dal quale parto sempre è questo. Questo qua è quella che io considero una mappa di riferimento di come funziona, non vi preoccupate, sembra complicata, ma non lo è, l'ha fatta un giurista, quindi non può essere complicato. Di come funziona il trasferimento tecnologico dentro le organizzazioni. Noi parliamo di risultati della ricerca che vengono da team che fanno ricerca. I team sono all'interno di un'organizzazione che ha un'amministrazione, che fa supporto alla ricerca, al trasferimento tecnologico, e poi c'è un top management. Qua si pianifica la ricerca e soprattutto si individuano le fonti di finanziamento. Qua si dà supporto, qua la si esegue. E poi a valle di questa attività di ricerca ci sono dei risultati che devono essere trasferiti sul mercato, come si dice oggi, per creare impatto. Qualsiasi cosa questo voglia dire dal punto di vista economico o sociale. E l'idea è che questo impatto in qualche modo possa avere dei ritorni sull'organizzazione in termini economici e non necessariamente economici. Collaborazioni, dottorati congiunti, borse di ricerca, e via discorrendo. Questo dovrebbe essere il circolo virtuoso. Il problema di questo circolo virtuoso è che di risultati della ricerca se ne producono tanti, sotto varia forma, dall'articolo scientifico al prototipo. Poi dipende chiaramente dal settore, perché se io faccio modelli di intelligenza artificiale piuttosto che caratterizzo materiali, il risultato è intrinsecamente diverso. Ma quello che si sa è che quando si passa dalla fase di gestione della ricerca alla fase di sfruttamento, c'è una, come dire, una strozzatura perché molti di questi risultati restano non utilizzati, o meglio, restano non utilizzati dal punto di vista, tra virgolette, industriale. L'articolo scientifico è normalmente oggetto di fruizione da parte della collettività scientifica. Ma il risultato, per esempio, il dispositivo medicale che arriva sul mercato evidentemente rientra in un sottoinsieme piuttosto piccolo. e qua c'è una legge che non è scritta, è una legge per cui tanti risultati, in realtà, di tanti risultati pochi arrivano sul mercato. Per tante ragioni. Perché non sono, perché sono semplicemente degli input intermedi, sono risultati che richiedono ulteriormente di essere elaborati, perché sono risultati di ricerca di base, quindi non ci dobbiamo preoccupare dell'impatto sul mercato. Avranno un impatto persino più grande ma non ce l'avranno sul mercato. Perché molti risultati sono immaturi e nessuno si fa carico di portarli a maturazione, serve la proof of concept, però non ci sono i soldi e così via. E soprattutto perché c'è un momento in cui l'istituzione istituzionalmente smette di fare ricerca e l'attività di sfruttamento è un'attività, è vero, si dice all'interfaccia tra la ricerca e il mercato ma molto più vicina al mercato e non è detto che l'istituzione voglia o possa o abbia le risorse, la capacità, la visione di fare trasferimento tecnologico. Perché vi sto dicendo queste cose? Perché hai voglia a fare accordi di trasferimento tecnologico, cercare di valorizzare dei risultati quando per esempio il top management non crede in quel tipo di trasferimento tecnologico. Hai voglia a cercare imprese se non sto in un'area industrializzata la prima impresa ce l'ho a 150 km perché sono in un'area depressa. Quindi noi dobbiamo tenere conto di questi elementi di contesto quando facciamo queste attività di valorizzazione perché sono variabili esogene che però incidono sulla buona riuscita dell'operazione. È chiaro che chi sta a Milano, in Lombardia fa meno fatica di chi sta a sono stato dieci anni a Foggia a Foggia o a Camerino diciamo aree meno industrializzate. È vero che i risultati hanno un'applicazione che non dipende dalla geografia però è chiaro che se esco di qua e c'è l'ufficio di Pfizer sarà più facile fargli vedere la mia molecola che se stanno da un'altra parte. Ora nell'attività di valorizzazione e sfruttamento dei risultati quello che si fa quello che fanno i nostri uffici di trasferimento di tecnologia sono genericamente queste tre attività cioè ci aiutano aiutano i ricercatori a proteggere i risultati della ricerca quando il risultato della ricerca non è semplicemente il paper scientifico quello lo sappiamo benissimo come si tratta un paper scientifico quello che bisogna fare la submission alla conferenza i proceedings la rivista e via discorrendo ma quando il risultato è un risultato candidato tra quei pochi ad arrivare sul mercato è necessario proteggere e voi avete fatto o farete no l'avete già fatto questo percorso di generazione della proprietà intellettuale cioè di come dire copertura del risultato con dei titoli di proprietà intellettuale poi l'ufficio gestisce e poi l'ufficio è incaricato dello sfruttamento l'ufficio è incaricato dello sfruttamento ma non lo fa l'ufficio da solo lo sfruttamento perché l'ufficio gestisce tante cose negli uffici di trasferimento di tecnologia negli uffici di ricerca ci sono poche persone che hanno a che fare con una varietà di ricercatori e con una varietà di risultati non pensiamo ai politecnici però pensate all'università generalista l'università di Milano la Sapienza grandi università dove dentro c'è medicina, ingegneria chimica, fisica eccetera oggi viene il medico domani viene il fisico dopodomani viene il bioingegnere e via discorrendo quindi c'è una grande varietà di risultati le procedure più o meno si equivalgono ma la sostanza dell'oggetto della valorizzazione è diverso di volta in volta e quindi questa croce diciamo così dello sfruttamento non è a carico soltanto dell'amministrazione e quindi di chi fa trasferimento tecnologico ma anche dei ricercatori non c'è nessuna vaga possibilità di sfruttare e arrivare al mercato sfruttare un risultato e arrivare al mercato se i ricercatori sono disinteressati questo lo dico perché da una parte chi sta chi vestirà di voi chi veste di voi i panni del responsabile del trasferimento tecnologico deve cercare l'engagement delle persone deve essere prima di tutto un dialogatore se non c'è l'engagement delle persone questo mestiere non ha nessunissima chance di arrivare alla fine ma dalla parte del ricercatore questo deve significare responsabilità il ricercatore deve sapere che la sua attività non finisce qua la sua attività finisce qua lo dico soprattutto oggi perché noi veniamo da un'epoca in cui la ricerca era la ricerca era una cosa il mercato era un'altra cosa ma il genoma del ricercatore sta cambiando è cambiato e il ricercatore non è soltanto un soggetto bravo ad attrarre fondi e a eseguire pianificare ed eseguire l'attività di ricerca è anche un trasferitore di tecnologia io vi racconto questa esperienza che secondo me è stata diciamo illuminante quando io lavoravo all'ufficio di trasferimento tecnologico dell'Università della California era l'ufficio l'Università della California è una federazione con dieci campus e c'era un ufficio centrale che dipendeva dalla presidenza che si chiamava OTT Office of Technology Transfer ed era a Oakland quindi lontano da tutti i campus più vicino era Berkeley poi c'era San Francisco ma era lontano e noi gestivamo anche i brevetti di UC Santa Barbara e a UC Santa Barbara c'era Alan Eager che nel 1999 ha preso il premio Nobel per la chimica persona superattiva dal punto di vista brevettuale credo che all'epoca avessero una sessantina di brevetti aveva una sessantina di dottorandi aveva fatto una spin off che si chiamava Uniax lui si occupava di plasmi che era stata acquisita da DuPont per 50 milioni di dollari e benché avesse superato diciamo credo i 70 anni più era ancora attivo veniva veniva a incassare gli assegni perché ovviamente però veniva e mi ricordo che il mio capo una volta gli disse Alan ma chi te lo fa fare hai preso hai tanti soldi hai fatto perché non stai a Santa Barbara non te ne vai e gli dice ma io scusami io sono un premio Nobel io ho 60 dottorandi in laboratorio gli devo dare una prospettiva gli devo dare gli devo insegnare un mestiere per dire questa cosa mi colpì molto perché un signore che tutto sommato avrebbe potuto tirare i miei in barca e aveva già fatto tutto aveva preso anche il premio Nobel della sua posizione e per lui l'attività era non faccio ricerca ma raccolgo denari e poi mi occupo di che cosa stanno facendo i miei brevetti e aveva fatto lo spin off e l'aveva aiutato a vendere quindi un po' quello è l'archetipo del nuovo diciamo del nuovo ricercatore di come ognuno di noi dovrebbe essere allora detto questo nell'attività e poi scendiamo nell'attività di sfruttamento nell'attività di sfruttamento noi utilizziamo quattro tipologie di chiamiamoli così canali di sfruttamento canali commerciali che riguardano lo spin off e ieri voi avete avuto picca luga immagino che questo capitolo sia smarcato gli accordi di ricerca e sviluppo perché l'accordo di ricerca e sviluppo è uno strumento di sfruttamento proprio per la ragione che dicevo prima se il risultato è un intermedio e mi serve di combinarlo con altre conoscenze l'accordo di ricerca e sviluppo è strumentale ad avvicinarlo ancora di più ad un livello oggi diremmo noi ad un TRL più alto di modo che divenga più appetibile e facciamo rientrare in questa categoria per esempio gli accordi con i quali si fa la proof of concept con un'azienda ho individuato questa molecola secondo me serve a curare il tumore alla prostata ma sì da qua al farmaco sai quanto proviamo a vedere oppure ho questo software che secondo me è una rete neurale che secondo me serve a capire da delle immagini facciamo una proof of concept che cosa vuol dire facciamo un pezzettino di ricerca che non è una ricerca di base è una ricerca finalizzata a verificare a validare il principio a provare il principio per capire se quella quel risultato di ricerca è un candidato a fare un passaggio successivo verso il mercato e noi oggi lo sapete c'è la scala del TRL che è uno standard ormai a livello internazionale dice proof of concept tra TRL 4 e TRL 5 quindi quando la tecnologia è ferma a quel livello mi serve di fare proof of concept qualche volta questa proof of concept la devo fare con un terzo può essere un terzo finanziatore può essere un'impresa può essere un altro collega l'accordo che facciamo in realtà è un accordo che somiglia molto alla ricerca sviluppo forse più allo sviluppo che alla ricerca però è sempre un accordo di collaborazione dove dobbiamo condividere delle risorse umane materiali di relazioni per far avanzare questo risultato sul mercato quando invece il risultato è già di per sé più maturo non dico maturissimo ma più maturo le strade alternative che si aprono sono quella della vendita e quella della licenza vendita e licenza di proprietà intellettuale sono simili alla vendita e all'affitto di beni fisici la vendita vuol dire ti cedo tutto ti cedo tutto che cosa significa ti cedo la proprietà intellettuale e quello che la proprietà intellettuale rappresenta cioè il brevetto è quello che c'è scritto dentro evidentemente te lo vendo te lo cedo vuol dire mi privo definitivamente di questo risultato oppure te lo concedo in licenza vuol dire te lo affitto sto utilizzando la terminologia non ortodossa cioè ti metto in condizione di utilizzarlo se è già maturo di utilizzarlo commercialmente se è ancora immaturo di fare tutte quelle attività di completamento della tecnologia per poi venderlo nel caso della vendita non sono più proprietario nel caso della licenza continuo ad essere proprietario e ho un affittuario con la differenza che se ho un immobile lo posso affittare ad una persona soltanto se ho proprietà intellettuale la posso affittare a tanti soggetti contemporaneamente la bellezza della proprietà intellettuale è questa scalabilità infinita per cui se ho un software questo software lo possono utilizzare contemporaneamente centinaia migliaia milioni di persone sta a me e questo è un tema strategico sta a me scegliere se lo voglio dare a uno soltanto e quindi avere un licenziatario esclusivo oppure spezzettare questo è un tema strategico perché di nuovo se è una tecnologia destinata ad avere altissimo impatto e io voglio idealmente che questo impatto ci sia dovrò ragionare in termini di licenza non esclusiva se invece è una tecnologia che avrà un impatto che avrà anche un grande impatto però richiede un investimento forte da parte del licenziatario probabilmente mi devo orientare per la licenza esclusiva chi di voi lavora nella ricerca farmaceutica sa benissimo che nessuna casa farmaceutica prenderebbe in licenza su base non esclusiva la molecola che deve diventare il farm perché da là da quel momento al momento in cui ottiene l'autorizzazione all'emissione in commercio passano 8, 9, 10, 12 anni spende 8, 900 milioni di euro e quando arriva sul mercato vuole essere sicuro che ci sia solo lei e che nel frattempo lo stesso risultato non sia stato condiviso perché lo dico questo molti di voi vengono dalla ricerca pubblica o finiranno nella ricerca pubblica c'è spesso questa discussione questa diatriba sul se sia opportuno fare licenze esclusive o non esclusive e si dice ma tu sei un soggetto pubblico hai fatto ricerca per lo più utilizzando ricerche pubbliche adesso non dovresti fare delle non dovresti fare licenze esclusive dovresti fare in modo che questo tuo risultato vada a beneficio di più soggetti possibili perché se c'è soltanto uno che beneficia evidentemente vuol dire che quel soggetto si sta appropriando di tutto l'investimento che è stato finanziato anche dal pubblico e questo ragionamento è in parte sensato in parte no perché si scontra con il fatto che al soggetto al licenziatario al soggetto al quale io do la tecnologia non sto dando un prodotto sto dando una tecnologia e c'è una bella differenza perché il prodotto si vende la tecnologia va trasformata in prodotto e in mezzo come dimostra la ricerca farmaceutica ci possono essere tantissimi investimenti quindi è inutile dire io faccio per forza licenze non esclusive se dall'altra parte non troverò mai un interlocutore che cosa è meglio rimanere fedeli al principio per cui io non faccio licenze esclusive oppure vedere che quella molecola è diventata un farmaco e sta risolvendo un problema qua c'è molta ideologia e uno potrebbe ragionare in termini estremi dicendo ma se non devo fare licenza esclusiva allora forse non faccio nemmeno il brevetto pubblico e prendete e mangiatene tutti chi lo vuole lo utilizza però come spesso succede proprio perché è disponibile a tutti non lo prende non se ne fa carico nessuno e capiterà ogni tanto c'è questo dibattito su se sia opportuna la proprietà intellettuale nella ricerca pubblica se sia opportuna la licenza esclusiva rispetto al risultato di ricerca pubblica prego ah serve il microfono scusa sì per la registrazione no se posso dire diciamo così un'opinione cioè dove sta scritto che la licenza esclusiva è necessariamente immorale cioè nel senso se per esempio invento qualcosa che possa giovare tantissimo anche per affinità ad un'azienda del mio territorio e quindi io posso dare magari un plus ad un'azienda della mia città piuttosto che a un'altra europea in questo caso strategicamente io sarei più propenso ma anche moralmente ad una licenza esclusiva no allora grazie ovviamente io gli sto dando un vantaggio perché se questo se questa molecola ha del potenziale il fatto che io la dia a uno escludendo tutti gli altri vuol dire che gli sto dando un vantaggio e qualche volta è possibile che questo sia un risultato sperato io vi ricordo noi citiamo spesso il Beidol Act no la legge statunitense questa legge che è un po' è un po' come l'avete visto l'hai visto il padrino sì bellissimo quella scena meravigliosa poi non l'ho visto però fa brutto dire che non ho visto il padrino no questo è l'unico il Beidol Act è stata la legge del 1980 è stata la legge che negli Stati Uniti ha diciamo così dato vita a quel movimento che poi ha portato quello che noi sappiamo negli Stati Uniti uffici di trasferimento tecnologico tanti brevetti tante licenze tanti spin off e via discorrendo e il Beidol diciamo io il padrino l'ho visto quest'estate per la prima volta in vita mia quindi però il Beidol lo conosco bene il Beidol è una legge piccolissima brevissima no che dice due cose dice quando l'ente di ricerca è finanziato con risorse federali l'ente finanziato è titolare dei risultati della ricerca non il soggetto finanziatore ma il soggetto finanziato quindi io sto a Berkeley il dipartimento dell'energia o il dipartimento dei trasporti mi danno un grant per fare ricerca viene fuori un brevetto il brevetto è di UC Berkeley ok prima del Beidol la proprietà intellettuale era del soggetto finanziatore quindi c'era una situazione ci sono degli studi che dicono che fino al 1980 le agenzie federali statunitensi DOE NSF NIH eccetera eccetera avevano un patrimonio di 28.000 brevetti la percentuale dei brevetti di quei 28.000 sfruttati era prossima allo zero perché? perché quelli brevetti stavano a Washington dove stanno tutte le agenzie e la ricerca veniva fatta in California al Wisconsin a Miami nel Montana e via discorrente e chi ha l'interesse questo diciamo ci porta ci porta qua chi è che ha interesse allo sfruttamento del risultato? in astratto il soggetto finanziatore quindi l'agenzia dice ma ti ho dato i soldi adesso devi valorizzare peccato che io sto qua e i risultati stanno dall'altra parte quindi per avere il controllo su questi risultati me li dovresti ritrasferire e infatti molte università quelle più grandi celle che iniziavano a capire il significato di questo tipo di trasferimento tecnologico andavano a Washington e cercavano di farsi di trasferire i risultati Stanford per esempio era stata una delle prime anche Stanford che è privata soggiasceva alla regola l'altra cosa che ha fatto il Beidol era dire alle università care università soggetti finanziati che siete titolari dei risultati voi potete fare delle licenze esclusive ok nel dubbio vi dico che potete fare anche delle licenze esclusive sono cambiate due cose che però hanno hanno modificato completamente lo scenario perché nel momento in cui la legge federale mi dice che io ho i soldi per fare la ricerca ma sono anche proprietario dei risultati come dice Spider-Man alla fine dell'episodio quando non si può fidanzare con Mary Jane Watson con i grandi poteri vengono anche le grandi responsabilità quindi adesso tu mi dai il risultato ma io ho la responsabilità della valorizzazione vuol dire che mi debbo organizzare internamente perché la mia attività non finisce qua la mia attività continua e quindi c'è stato un movimento di organizzazione ma e vengo alla domanda non sto facendo tutta questa cosa per sviare nel Beidol Act c'è scritta una cosa c'è scritto nel fare attività di valorizzazione e nel concedere licenze esclusive le università americane devono dare preferenza allo small business statunitense cioè devono privilegiare le piccole e medie imprese statunitense come dire io ti do i soldi sono soldi del bilancio federale sono soldi dei contribuenti tu fai attività di ricerca vieni fuori un risultato lo puoi dare in linea di principio a chiunque però prima passi da casa tua che non finisca ai giapponesi ai russi agli italiani no? eccetera quindi passi prima di là quindi arrivo ci sono due domande e quindi vedete la preoccupazione c'è ed è anche in capo al legislatore uno potrebbe dire è protezionistica non necessariamente è anche un favore quello che ti fa il legislatore di dire cerca i tuoi interlocutori qua intorno non andare a pensare che a Helsinki c'è il tuo primo interlocutore non è vero magari ce l'hai ce l'hai sotto casa però io legislatore mi devo assicurare che le ricadute del mio investimento siano ricadute che beneficiano prima di tutto il territorio noi diremmo oggi vai a capire che cosa significa però il tessuto imprenditoriale è soprattutto quello delle piccole e medie imprese che sono quelle che fanno più difficoltà a innovare internamente e quindi vedono meglio la prospettiva di acquistare innovazione dall'esterno ci torniamo tra un secondo c'è uno o due domande non so grazie no tornando tornando appunto in Europa e principalmente in Italia giustamente lui diceva posso dare licenza esclusiva a una sola impresa per esempio però appunto se la proprietà intellettuale è dell'ente pubblico dell'università non sto distorcendo il mercato ci arriviamo ci arriviamo sì un po' sì quando io ho detto un po' gli stiamo dando vantaggio ci sono degli accorgimenti sì la mia domanda era proprio legata al fatto che le nostre attività di ricerca poi la proprietà intellettuale se non sei professore dell'università di conseguenza l'università potrebbe dare una licenza non esclusiva non solo a me cioè potrebbe come mi posso proteggere da un punto di vista legale col fatto che in realtà quello che è la mia attività la mia proprietà di intellettuale io sono inventore di quella proprietà intellettuale poi l'università garantisca solo a me la licenza esclusiva e non decida di darla ad altri perché ha questo potere diciamo al coltello e a parte del manico chiaro chiaro allora no io sono contento perché così facciamo una discussione che credo nasca dall'esperienza personale dalle percezioni quindi benissimo primo tema è italiano sta vicino ma gli sto dando un vantaggio allora questo diciamo l'attribuzione del vantaggio solitamente non è è un problema ma non è un problema che solleva diciamo delle necessità di risposte normative lo fa lo pone lo solleva il problema soltanto in un caso e cioè quando c'è il rischio che la licenza esclusiva sia una forma di aiuto di Stato che cosa significa aiuto di Stato significa che con i soldi dei contribuenti selettivamente io ho individuato un soggetto e gli ho dato delle risorse falsando la concorrenza perché gli altri se le sono dovute guadagnare a lui le ho date a valere sulla fiscalità generale e questo non va bene non va bene soprattutto in Europa perché se ciascuno Stato selettivamente favorisce alcune aziende o le sue aziende nazionali capite che il concetto stesso di mercato unico di mercato interno fallisce quando è che c'è aiuto di Stato noi abbiamo per quelli di voi però questa è una cosa già molto tecnica c'è una comunicazione della Commissione Europea sugli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo che dice le operazioni di trasferimento di risultati della ricerca pubblica alle imprese possono configurare aiuto di Stato un aiuto di Stato che si dice aiuto indiretto aiuto di Stato indiretto cioè io non sto dando soldi all'impresa sto dando soldi all'ente pubblico il quale l'ente pubblico poi gli riversa i risultati e quindi il beneficiario finale del mio finanziamento è il soggetto privato allora il legislatore dice chiaramente bisogna il legislatore europeo la Commissione dice bisogna valutare di caso in caso però non c'è non c'è si presume che non ci sia aiuto di Stato in alcuni casi che la comunicazione indica primo caso i risultati della ricerca appartengono al soggetto finanziato quindi non sto facendo la ricerca e dicendo che quando i risultati vengono fuori appartengono direttamente all'impresa sono i miei in prima battuta se sono i miei ci sarà un atto di ritrasferimento se ci sarà un atto di ritrasferimento verosimilmente avverrà il cambio di qualche cosa perché capite bene se il soggetto beneficiario finale cioè l'impresa paga qualcosa non c'è aiuto di Stato sta comunque dando un corrispettivo seconda ipotesi è quella in cui i risultati siano condivisi quindi l'ente non si spoglia del risultato ma va in condivisione in cotitolarità eccetera terza ipotesi è quella in cui i risultati siano trasferiti all'ente che però paga un prezzo di mercato dice la norma quindi non c'è un aiuto ma c'è un corrispettivo quindi sta pagando e non sta pagando diciamo vabbè mettiamo 5 euro così facciamo no dice un prezzo di mercato la comunicazione vai a capire che cosa significa prezzo di mercato rispetto alla proprietà intellettuale dove un mercato non c'è la comunicazione dice si considera un prezzo di mercato quello che è stato negoziato tra le parti a condizioni di mercato cioè ci deve essere stata una negoziazione successiva al momento in cui il risultato è venuto fuori successiva al momento in cui il risultato è venuto fuori l'ente proprietario del risultato adesso ha un'idea di quanto vale questo risultato e magari è disposto a fare uno sconto ma non è disposto a regalarlo che è quello che facciamo tutti noi ci mettiamo d'accordo per la licenza o per la rivendita quindi quando ricorrono questi tre casi la norma dice presumiamo che non ci sia aiuto di Stato indiretto e quindi il beneficio si può attribuire dopodiché il problema la palla torna all'ente perché l'ente dice sì ma io non ho una impresa amica ce ne ho tre tre piccole e medie imprese locali e potrei beneficiare tutte e tre se dico che do una licenza non esclusiva a ciascuno nessuno sarà incentivato se dico che lo do uno scoraggio gli altri e qua subentra l'altro problema che è un problema tipico della pubblica amministrazione quali sono le procedure in base alle quali la pubblica amministrazione può stipulare uno di questi accordi il tema il tema è questo cioè se io sono un privato faccio quello che voglio sostanzialmente se sono un privato nella scelta del mio contraente decido io se sono una pubblica amministrazione e debbo comprare la carta igienica devo fare una gara quello è quello che tecnicamente si chiama un contratto passivo cioè un contratto dal quale deriva un esborso per l'amministrazione devo comprare dei reagenti devo comprare un macchinario devo fare me lo impone la legge il codice del testo unico sugli appalti mi dice devi fare una gara perché perché tu spendi dei soldi pubblici ed è facile che qualcuno ci provi quindi devi diciamo mettere tutti quanti in condizione di partecipare normalizzando la richiesta non è che a uno dice mi dai 10 rotoli 5 rotoli 8 rotoli e poi viene no fai un capitolato chiedi ti arrivano delle offerte le confronti e selezioni questo lo impone la legge per i contratti passivi cioè tutte le volte in cui l'amministrazione deve pagare i contratti di valorizzazione dei risultati della ricerca non sono contratti passivi non rientrano nella contrattazione attiva sono contratti dai quali io ente mi aspetto un'entrata una royalty un prezzo una qualsiasi forma di corrispettiva un pezzo di capitale sociale di uno spin off ma aspetto questi sono quelli che si chiamano contratti attivi e per i contratti attivi il nostro legislatore dice dovete seguire tutta una serie di principi ma non siete vincolati a fare le procedure scandite dal codice dell'appare trasparenza evidenza pubblica eccetera che cosa significa significa che se io ricorro in quella situazione per cui ho tre piccole e medie imprese del territorio alle quali astrattamente potrei dare questo beneficio chiamiamolo così dovrei dovrei adottare una procedura interna che metta tutte quante almeno nella condizione di sapere che io sto per attribuire questo beneficio e metta tutte e tre nella condizione quantomeno di dire io sono interessato no poi magari di tre uno solo è interessato quindi il problema l'ho risolto in radice magari sono due su tre eppure sono tre su tre a quel punto io devo ho il problema di come scelgo no e però questo è un problema ci sono di nuovo quei principi di non discriminazione trasparenza oggettività eccetera ma che cosa significa in concreto significa che se io penso di trovarmi in quella situazione in cui ho più soggetti interessati e non sono obbligato a fare una gara però posso fare una procedura competitiva no dico c'è questo risultato vi invito a manifestare interesse per lo sfruttamento e mi riservo di valutare quella proposta che secondo me risponde meglio alle mie esigenze chi mi paga guardate non chi mi paga di più no chi mi dà maggiore garanzia che arriviamo fino in fondo perché a me non interessa che mi promettiate il 20% di royalties se non arriviamo mai sul mercato perché il 20% di zero è un numero impossibile no io voglio che qualcuno arrivi sul mercato e che questa molecola diventa un farmaco poi posso aspettare tutto il tempo perché vi dico questo perché c'è stato un caso in queste materie non si litiga quasi mai però c'è stato un caso anni fa dove era coinvolta l'università di Milano mi pare il dipartimento di veterinaria e avevano brevettato un procedimento per l'inseminazione artificiale dei bovini credo mi sembra di ricordare su tutti i casi strani che succedono e c'erano due imprese due imprese interessate ad acquistare il brevetto quindi rientravamo qua non era una licenza però la problematica è lo stesso anzi forse è aggravata di più dal fatto che io a quel punto ho venduto allora l'università che cosa fa non fa partire una procedura di cara però valuta le offerte e sceglie quella delle due aziende che economicamente aveva fatto l'offerta meno vantaggiosa l'altra si arrabbia e va al TAR dicendo è il provvedimento col quale è stato venduto è illegittimo perché non hanno fatto la gara non hanno discriminato e il TAR Lombardia del 2004 dice no ha fatto ha fatto c'è un regolamento interno che dice come si vendono i brevetti lo ha seguito lo ha rispettato evidentemente sulla base della discrezionalità ha valutato che quell'offerta che era economicamente più vantaggiosa in realtà non dava quelle garanzie di credibilità di cose eccetera che dava quell'altro quindi come dire il TAR almeno in una situazione ha sdoganato questa 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 possibilità di fare vendite di brevetti però implicitamente che cosa ha detto ha detto non potete attribuirle lanciando la monetina perché la fortuna è cieca ma qua non ci serve ci serve ci serve discernimento più che cecità dovete valutare dovete mettere sul tavolo queste cose e valutare e la valutazione può paradossalmente essere una valutazione che non premia quello che mette più soldi sul tavolo la velocità l'affidabilità rapporti pregressi ci possono essere tante considerazioni quindi là non c'era una questione di aiuto di Stato però il soggetto escluso lamentava il fatto di essere di non aver potuto partecipare a questa festa molto ricca e il TAR ha dato ragione all'università quindi vedete che in realtà i problemi ci sono sono noti però si affronta anche con ragionevolezza allora per tornare a noi eravamo partiti dicendo che questa forma di sfruttamento che è la licenza in realtà contiene in sé modalità diverse la licenza esclusiva quella non esclusiva c'è un tema che in prima battuta è un tema di principi se sia giusto che la ricerca pubblica eccetera eccetera ma come vedete ha delle implicazioni delle ricadute pratiche mostruose perché poi noi sulla base di quel principio dobbiamo prendere delle decisioni che sono delle decisioni sindacabili si può andare dal TAR posso finire sui giornali e via discorrendo ricorderete in piena pandemia la vicenda del San Matteo di Pavia di Azoring un giudice che aveva visto delle cose che non esistevano però nel frattempo è successo parecchio parecchio trambusto poi magari ci ritorniamo eravamo qua nel caso di Azoring San Matteo prego lo Stato ha bandito un bel po' di borse da ricercatore RTDA i famosi PON React EU in cui per esempio con cui è finanziato per esempio il mio contratto da ricercatore e questi contratti erano finanziati per i due terzi dal ministero un terzo dell'università e prevedono diciamo così un collegamento ad un'azienda per cui noi siamo tutti obbligati a fare questi sei mesi in questa azienda collegata pochi mesi fa addirittura invece sono stati stanziati un bel po' di soldi per assegni di ricerca quindi per esempio la regione Puglia aveva bandito qualcosa tipo mi pare 200 assegni di ricerca il cosiddetto bando riparti per cui anche qui erano tutti progetti collegati sempre diciamo così ad un'attività aziendale perché erano progetti finalizzati appunto al miglioramento poi dell'attività aziendale stessa ora in questi casi potremmo parlare di un aiuto di stato indiretto e se sì come sono state scelte queste diciamo le aziende i progetti c'è stata fatta una procedura di gara appunto all'inizio per poter magari scegliere determinate aziende piuttosto che altre c'è stato un bando oppure così ha fatto tutto l'università chi ha presentato il progetto l'ha vinto e basta no allora questo diciamo ha riguardato la regione Puglia ma in realtà ha riguardato e questo è quando diciamo ho iniziato ad assumere grandi quantità di occhi task per il mal di testa perché tutti io sto in dipartimento di ingegneria noi avevamo un sacco di borse c'era la processione ma come dobbiamo fare allora no non ci sono aiuti di stato quando il finanziamento è alle risorse umane no perché non sto dando un risultato non sto dando un'attività sto dando una persona può essere estremamente qualificata può darsi che non faccia nulla quindi non c'è un beneficio un beneficio diretto come? sì poi sono sotto la soglia diciamo economicamente non sono significativi e ovviamente il fatto che non sia aiuto di stato rilassa tutti i requisiti di selezione non ci sono stati bandi le imprese sono state selezionate sulla base della conoscenza dei docenti proponenti dei programmi concreti che dovevano fare ma secondo me non ci sono alterazioni significative dei processi dov'è che viene la forte emicrania? viene la forte emicrania perché l'azienda dice ah benissimo viene sei mesi da me questo RTDA questo assegnista hanno vari profili viene sei mesi da me sui tre anni che sta da te in università dobbiamo fare una convenzione perché io lo faccio entrare qua c'è la sicurezza la privacy la cosa e c'è anche la proprietà intellettuale e molte aziende dicevano tutto quello che fa il ricercatore mi appartiene ecco anche no nel senso che io lo seleziono gli do la borsa no è vero che il dottorato di ricerca non è una posizione stipendiale in Italia ma sono soldi che io gli do gli do un tutor lo faccio crescere lo porto alle conferenze gli do un computer una cosa eccetera poi viene sei mesi da te e tutto quello che fai è tuo perché questa cosa no no e diciamo il grosso là il tema è tutto negoziale perché se io sto morendo dalla voglia di avere quell'azienda che per sei mesi mi ospita questo ragazzo magari sbrago e gli concedo tutto no i miei colleghi dicevano ma questa cosa non va bene perché ma ti pare il tema di ricerca glielo abbiamo dato noi lo seguiamo noi va sei mesi là potrebbe non fare nulla sei mesi e l'impresa si prende si prende tutto no ovviamente l'impresa ha un interesse a dire ma caspita sei uno bravo lo faccio venire qua magari l'idea gli viene e quindi si tratta di negoziare ecco perché è tutto negoziare si tratta di negoziare qual è un punto di equilibrio tra queste due tra queste due istanze io credo che per i dottorandi questo tema si era posto in pratica il vero problema non sia tanto a chi appartiene il risultato dell'attività di ricerca nel nostro caso il problema non si poneva a punto perché nel regolamento di Ateneo c'è scritto che il risultato di ricerca dello studente del dottorando dell'assegnista del bidello del professor è tutto dell'università fine quindi io non mi siedo nemmeno al tavolo se qualcuno pretende di cambiare di stravolgere questa regola la vera questione è che l'azienda dice no siccome è mio il risultato tu non devi pubblicare me lo devi chiedere prima a me io sto facendo io sto in una fase di apprendimento sto facendo l'attività di ricerca quindi non mi puoi chiedere di non pubblicare di aspettare quello è un conto terzi è una cosa diversa però no in conto terzi non c'è un soggetto informazione c'è una prestazione di servizio che mi viene chiesta e tra le varie condizioni mi viene anche detto non divulgare può darsi che non mi stia bene può darsi che mi sta bene ma non sto disponendo del lavoro intellettuale di un ragazzo che viene a fare un percorso di apprendimento e poi dice guarda che bello possiamo scrivere un paper no il paper non lo puoi pubblicare perché abbiamo firmato un pezzo di carta pare che giuridicamente questo diciamo le aziende poi lo hanno capito se la convenzione la firmano l'Ateneo e l'impresa per il dottorando che io ancora non so chi è perché teoricamente devo ancora fare la procedura io non mi posso impegnare per un soggetto che poi si ritrova incastrato no viene a fare il dottorando poi dice guarda però questo non lo puoi fare questo non lo puoi fare io lo devo sapere prima quindi il vero problema di quegli strumenti era contemperare il fatto che c'è un soggetto in formazione che l'azienda si lo ospita ma sei mesi su tre anni quattro anni e il fatto che c'è un'esigenza di divulgazione dei risultati senza i quali dice secretiamo la tesi di dottorato ma come faccio a secretare la dissertazione che cosa faccio mimo no non si può fare chi dice queste cose ignora che c'è una norma dello Stato che dice che noi chi ha fatto il dottorato lo sa siamo tenuti a depositare due copie due esemplari d'obbligo alla biblioteca nazionale e non è che alla biblioteca nazionale di Firenze o a Roma gli dico guardate però non le fate vedere a nessuno perché è una biblioteca pubblica quindi quel documento è accessibile tutte queste tematiche io so che sono tutte situazioni e soluzioni con le quali si cerca di allineare gli interessi tra tra i vari soggetti però dobbiamo scegliere soluzioni giuridicamente possibili e dal punto di vista della politica sostenibile se io mi spoglio sistematicamente guardate c'è stato un momento e ci sono ancora delle istituzioni in cui quando si fanno gli accordi di ricerca e sviluppo di proof of concept eccetera col soggetto esterno si ragiona come se si stesse facendo un conto terzi devo fare la proof of concept mi dai 30.000 euro tutto quello che viene è tuo anzi anche il background è tuo ma come? no? eh ma se non gli dico così lui non lo fa con me eh vabbè pazienza non lo farà con te ma se sistematicamente noi diamo i risultati dell'attività di ricerca a un soggetto che mette anche solo un euro capite che questa cosa tecnicamente è possibile ma non è sostenibile nel lungo periodo io mi ritrovo divento un terzista divento un soggetto che fa solo prestazioni di servizio ed è irrilevante che mi chiami Politecnico di Lausanna piuttosto che Università della Calabria al mio interlocutore non interessa perché paga e prende evidentemente così non funziona perché quello che noi facciamo poggia su una stratificazione di sapere che viene da no da fonti da fonti diverse scusate io non è che ho un bias nei confronti delle aziende anzi cerco sempre di contemperare però dico mettiamoci anche nei panni dell'istituzione pubblica e del contribuente che la finanzia non è pensabile che per un vi dico questa cosa qualche mese fa con la mia segretaria del dipartimento stavamo discutendo l'ennesimo contratto di conto terzi dove appunto l'azienda diceva è tutto mio è mio anche le posate è tutto mio i risultati è tutto mio eccetera e poi c'era un corrispettivo e dico Chiara ma tu hai fatto caso che quando i colleghi fanno i contratti conto terzi il corrispettivo non è mai commisurato all'importanza del lavoro che si fa è sempre un multiplo di un assegno di ricerca no e 22 44 66 dice ah non ci avevo mai pensato ecco pensaci perché in realtà il docente che vuole fare conto terzi si fa finanziare un assegno di ricerca o due annualità ma quello è solo un pezzo del costo di quella ricerca se ci pensate no perché i costi generali il background di conoscenza quindi in realtà qua c'è il progetto stesso l'idea la soluzione allora un conto è finanziare una parte dei costi diretti della persona che ci lavora una parte è finanziare il progetto tenuto conto del background tenuto conto anche del diciamo del nome dell'istituzione no ma conta un fatto che mi sono rivolto al Politecnico di Milano piuttosto che all'Università di non lo so cioè conta certo se sei venuto qua c'è una garanzia di serietà ci sono tutta tutta una serie di fattori che gli enti debbono iniziare a prendere in considerazione indipendentemente dal fatto che ci sia aiuto di Stato discriminazione eccetera fa parte della come dire della buona pratica organizzativa e manageriale quella di dire io amministro un bene che sia pubblico o privato mi preoccupo di come dire di dargli il giusto valore di valorizzarlo nel senso di dargli un valore indipendentemente dalla capacità traslazionale se vieni qua qua noi valiamo qualche cosa se l'università detiene il brevetto legato alla ricerca che condotte in università reputa un'azienda migliore dello spin off da il brevetto all'azienda sebbene in realtà gli inventori sono quelli dello spin off in seconda in realtà per conto terzi solitamente le università non si ritengono dal 30 al 10% quindi uno fa già i calcoli delle spese se solitamente uno sa che il conto terzi non conviene mai perché il 30% va diciamo all'ateneo allora mi ero dimenticato di rispondere a questa domanda la domanda è diciamo nel momento in cui la proprietà intellettuale appartiene all'istituzione e non al ricercatore che la genera il ricercatore rispetto alla proprietà intellettuale è un terzo e quindi che regole segue nella valorizzazione dell'università quando il candidato allo sfruttamento è un terzo terzo cioè un'impresa e il ricercatore stesso qua la questione è delicata però credo che anche la risposta sia abbastanza semplice tutti gli atenei hanno delle condizioni di favore per lo spin off o meglio diciamola bene se il ricercatore dice io conservo un interesse verso questo risultato di ricerca ma è un interesse a sua volta di ricerca questo è un tema se il ricercatore dice io conservo un interesse verso questo risultato ma è un interesse di tipo industriale barra commerciale perché lo voglio portare sul mercato questo è un altro discorso allora come si soddisfa il primo interesse il primo interesse si soddisfa facendo in modo che qualsiasi cosa avvenga a quel risultato l'università l'ente e per esso le persone che lavorano nell'ente conservino la possibilità di utilizzarlo quantomeno per finalità di didattica e di ricerca quindi anche a fronte della più esclusiva delle licenze esclusive che io faccio con la più grande delle aziende più grandi dirò sempre mi riservo di sfruttare questo risultato per ulteriori attività di ricerca cioè se con quel risultato voglio è un pezzo di background di un futuro Horizon Europe non devo venire a chiederti il permesso me lo sono già preso nel contratto così come se voglio illustrare questo brevetto a lezione per spiegare come abbiamo risolto un problema non sto violando la licenza quindi questa riserva tecnicamente è molto importante qualche volta negli atenei ce lo siamo dimenticati dicendo facciamo licenze esclusive e poi diciamo è come nei contratti di edizione ho dato il contratto di edizione il dipartimento ha fatto la collana di studi umanistici archeologici eccetera poi dice adesso ci serve la copia in digitale da mettere in biblioteca e l'editore dice no lo puoi fare ma il libro è mio sì ma mi hai ceduto tutti i diritti quindi attenzione a fare questo carve out a ritagliarsi degli spazi di libertà anche nei confronti delle attività di licenza se invece il ricercatore ha un interesse di tipo commerciale cioè io voglio accedere a quel risultato perché penso di portarlo sul mercato quello attiva un percorso di spin off e tutti gli atenei anche se non lo hanno scritto nei regolamenti privilegiano lo spin off rispetto al terzo per una ragione molto semplice nello spin off ci lavora l'inventore o lo propone l'inventore e quindi quella componente di know how l'avrà detto Andrea Piccaluga quella componente anche tacita di conoscenza si riunisce e quindi è molto più probabile che si arrivi sul mercato con tutte le altre problematiche però credo che da quel punto di vista gli spin off abbiano sempre una precedenza e in qualche modo ce la debbono avere perché nello statuto delle università nei bandi PNRR ovunque c'è scritto che noi dobbiamo fare terza missione valorizzazione lo spin off è uno di quei canali elettivi quindi nessuno si scandalizza se io do la preferenza allo spin off lo devo fare con degli accorgimenti evidentemente perché lo spin off è un soggetto gracile ma lo posso fare lo posso fare allora cosa cosa importante questa questa il la valorizzazione dei risultati sotto qualsiasi forma diciamo non avviene non avverrà mai se non c'è un allineamento di interessi ok e questo di nuovo è un discorso di principi ma non è un discorso di principi perché noi dovremmo a un certo punto scrivere un accordo di sfruttamento e nell'accordo gli interessi si compongono se gli interessi non si compongono l'accordo non si fa o si fa sbilenco proteiforme allora quando perché io ho fatto affette queste istituzioni perché quando noi teniamo presente che nella valorizzazione non c'entra solo la ricerca ma c'entra anche l'amministrazione c'entra anche il top management c'entra anche l'impresa o il finanziatore vuol dire che il quadro di interessi si complica perché noi abbiamo una situazione in cui io devo andare da qualcuno che mi dà delle risorse può essere un fondo di investimenti che mi mette i soldi nel capitale dello spin off oppure un'azienda con la quale faccio proof of concept oppure una grande impresa che paga fa la preclinica poi la fase 1 la fase 2 arriva sul mercato col prodotto farmaceutico quindi questo signore è un signore che ci deve mettere tanti soldi io dico questo signore ha la proprietà delle risorse che servono per andare avanti poi c'è un soggetto che è diciamo il proprietario del processo e questo soggetto è questo è l'ufficio perché chi negozia l'accordo di sfruttamento è tipicamente l'ufficio quindi è l'ufficio che deve essere coinvolto che interesse ha l'ufficio o l'amministrazione in generale l'amministrazione ha un interesse a che l'azione amministrativa sia corretta e che l'attività di valorizzazione porti dei risultati quali che siano secondo la concezione dell'ente poi c'è l'honor della tecnologia chi è l'honor della tecnologia è il ricercatore perché il brevetto può appartenere a chiunque ma chi ha fatto l'attività sperimentale chi la sa far progredire è il ricercatore chi è della proprietà intellettuale dell'ente la proprietà intellettuale è qua il processo è qua la tecnologia è qua e le risorse sono qua allora se non si allineano questi interessi non c'è verso di portare a casa un'operazione di valorizzazione minimamente significativa e non si allineano molte volte perché l'amministrazione il rettore che è quello che firma la licenza può essere molto attivo e molto partecipe oppure totalmente disinteressato magari a un delegato il delegato può essere molto attivo o molto disinteressato molto partecipe delle attività o no però fateci caso lo vedete dalle indagini in Etval ci sono si potrebbero fare delle correlazioni statisticamente molto significative la performance degli uffici di trasferimento tecnologico in termini di capacità traslazionale è molto legata alla presenza di una governance forte quando la governance dice facciamo trasferimento tecnologico si fa trasferimento tecnologico quando è disinteressata perché dice dobbiamo fare più didattica più coso lo dico non ho evidenza solo anedottica però secondo me non sbaglio tanto perché perché questi signori ovviamente trasmettono un messaggio ai ricercatori dicendo voi bravi perché fate ricerca perché prendete le Marie Curie ma bravi anche perché fate lo spin off bravi perché fate le licenze bravi perché andate alle conferenze bravi per tutto e dice anche agli uffici andate avanti noi vi copriamo per cui tutte le volte in cui c'è da venire a discutere noi ci siamo allora se c'è questo allineamento l'operazione si fa chi solitamente può essere disalineato sono i ricercatori perché molti ricercatori si percepiscono come non necessariamente da coinvolgere nell'attività di sfruttamento quella roba amministrativa no quante volte dicono bisogna piazzare i brevetti anche questa terminologia mi produce delle no sì ma anche delle forme molto più come dire irruente piazzare i brevetti ma piazzare io faccio ricerca tutta una vita faccio brevetti che salvano la vita delle persone e tu li piazzi ma mica siamo mica vendiamo tappeti no o cucine componibili anche nella terminologia no in realtà però c'è questo atteggiamento che dice cerco qualcuno che piazzi i miei brevetti non lo troverai mai perché quel qualcuno sei tu dovrai tu andare per mano li dovete allineare no e ti devi allineare con questi signori qua fateci caso no anche nella terminologia si tradiscono le volte delle 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 attitudini mettiamo così ehm i tto ovviamente chi è che parla con l'azienda poi scrive il contratto propone parla di prezzo negozi eccetera i tto che però sono quelli che fanno più fatica ad allinearsi perché quando si fa questa bella operazione e si trova questa azienda che paga un milione di euro e vanno tutti sui giornali ci va sul giornale il professore il rettore che si fa il selfie l'azienda questo qua dice ma io ho fatto tutto e non c'è un cane che mi viene a dare un buffetto sulla spalla questo è un tema che noi abbiamo lo affrontiamo anche dentro il Netval no della legittimazione degli uffici di trasferimento tecnologico alla fine queste persone sono degli amministrativi si espongono molto all'attività che fanno ma alla fine guadagnano sempre la stessa somma indipendentemente dal risultato mentre se io sono un ricercatore posso avere dei pezzi di conto terzi no l'impresa non ha questi problemi il rettore e i delegati non hanno questi problemi questi soggetti ce li hanno no e quindi qualche volta non si può vivere solo di motivazione intrinseca sta scritto nel Vangelo non di solo pane vive l'uomo però anche un po' di pane no perché allora e qua infatti c'è un c'è tutto guardate quando io andai a lavorare all'università della California presi un ufficio molto bello e il quel mio tutor aziendale tra virgolette disse guarda speriamo che ti porti fortuna dice perché qua ci abitava si abitava perché ci passava molte ci lavorava un collega che siccome era il 2000 era l'anno delle start up dice è andato a lavorare per una start up se l'è preso una start up e gli ha dato un milione di dollari di stock option però quel signore prendeva 80 mila dollari l'anno di stipendio quindi ed era il 2000 quindi non prendeva poco ma aveva ecco i nostri diciamo responsabili di trasferimento tecnologico queste opportunità non ce l'hanno perché il mercato esterno è ancora molto certo qualcuno bravo io a memoria me lo ricordo qualcuno che è andato in Piaggio qualcuno che è andato in Pirelli però non è che ci sono tutte queste opportunità primo e secondo poi noi siamo incastrati in dei ruoli amministrativi dove siccome sei stato bravo quest'anno ti do un bonus di 30 mila euro perché hai portato quel contratto non si può fare stiamo cercando forse ve l'ha detto non so se Riccardo Pietrabissa ne ha parlato la Laura Spinardi stiamo cercando di far modificare dal Ministero le piante organiche delle università per prevedere l'autonoma figura del trasferitore di tecnologia quindi un soggetto che ha fatto un percorso di formazione e che in qualche modo accede magari come P o come dirigente cioè che possa avere un trattamento economico minimamente differenziato perché diversamente dici ma guarda io sai cosa me ne sto settore biblioteche fasso i libri sullo scanner viene quello l'aiuto a fare ricerca non vado là perché qua si lavora molto si lavora molto si fa fatica bisogna avere a che fare con i professori universitari che non sono proprio gli esseri più simpatici della terra bisogna parlare con le aziende che ti trattano male il rettore che non mi vuole sentire e via discorrendo quindi questo è effettivamente un grosso tema che stiamo cercando di risolvere professionalizzando questa cosa io lo dico anche ai miei a Brescia non potete rivendicare una legittimazione forte all'interno dell'organizzazione se non fate bene il vostro lavoro non può essere una petizione di principio cioè tu mi devi trattare bene perché io sto al TTO tu fai bene il tuo lavoro io ti tratto bene a prescindere poi poi il tema amministrativo un altro prego allora qualcuno ci ha pensato però non si può fare perché perché c'è un articolo nel nostro codice della proprietà industriale che dice che l'inventore è quello che ha fatto l'invenzione io lo potrei inserire tra i proprietari del brevetto ma non lo posso inserire nel coso però molti professori lo fanno dicono vabbè quello ha fatto delle prove in laboratorio non l'ho potuto pagarli ho detto prenditi un pezzetto di brevetto quindi no no stavo guardando però dico no si presentano con una lista di inventori dice però questo ma questo è inventore no però non l'ho pagato allora queste cose non vanno bene sapete perché più aumentano le teste più c'è il pericolo di disallineamento no cioè quando poi io debbo io onore del processo devo andare a parlare con l'azienda chi è di questi signori che che mi porto a convincere l'azienda che effettivamente il TRL è 4 che questa cosa funziona che bisogna fare eccetera c'è anche questo c'è anche questo tema non è di facilissima soluzione questo non è di facilissima soluzione però cercate di capire no anche la 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 posizione dell'amministrativo che dice io alla fine sì per carità però molti altri colleghi fanno molto meno è vero guadagnano come me ma lavorano molto meno io guadagno molto di più e non ho dei percorsi di valorizzazione delle risorse umane che sono che sono importanti però diciamo non ce ne occupiamo qua perché tanto non ne usciamo per oggi sapete che però ci sono state delle misure anche ministeriali di incentivazione bandi proof of concept eccetera stiamo cercando istituzionalmente di far capire questo problema e di eh legittimare il il questa figura professionale non è facile perché alcuni di voi vengono dagli RCCS gli RCCS non dipendono dal ministero dell'università dipendono dal ministero della sanità e hanno una loro norma un loro status giuridico dei cose le università dipendono dal ministero e lo status è quello definito dalla legge Germini e dal testo unico dei dipendenti il CREA è dipartimento d'agricoltura Enea è un altro ministero ancora quindi siccome questi enti sono appartenenti o vigilati da tanti ministeri e questi ministeri hanno i loro ambiti normativi è difficile introdurre trasversalmente un ruolo il ruolo unico dei trasferitori di tecnologia no è complicato si dovrebbe fare un contratto nazionale infatti stavamo pensando poi è caduto il governo di parlare con il ministero della funzione pubblica per dire che magari a livello amministrativo si riesce a creare una trasversalità come il tecnico di laboratorio non lo so come queste figure però non ci siamo riusciti però sappiate che questo è un tema sappiate che questo è un tema allora posso parlare assolutamente ma se la tecnologia è sviluppata in collaborazione con l'azienda per cui l'azienda ci mette un pezzo di quella tecnologia come cambia questo processo allora ottimo punto come cambia questo processo allora se l'azienda questo processo diciamo è una volgarissima semplificazione di una situazione nella quale c'è un risultato il risultato è stato fatto da questi signori viene trasferito da questi e appartiene a questi quindi c'è un risultato io lo devo spingere sul mercato se volete per riferimento a questa situazione come vi dicevo però i risultati alle volte sono degli intermedi e sono degli intermedi ai quali giustamente può concorrere questo progetto qua sotto il quale dice io ho messo i soldi all'inizio oppure ho messo delle risorse non necessariamente dei soldi né ricercatori né ma e questo risultato inventivo mi appartiene e qua la situazione si complica ancora di più perché che cosa succede? succede che tra gli owner della tecnologia ci sono anche i suoi dipendenti il brevetto è anche un pezzetto suo lui è un soggetto interessato ma ce ne potrebbero essere altri allo sfruttamento e non si capisce bene chi è che deve gestire il processo il tema della titolarità è un tema serissimo perché da una parte è inevitabile anzi io credo che aumenterà sempre di più perché noi siamo spinti a fare ricerca collaborativa se pensate adesso a tutte le infrastrutture del PNRR ma prima ancora i programmi quadro il FIRB il PRIN noi siamo costretti a fare attività insieme di ricerca facendo attività di ricerca insieme è inevitabile che vengono fuori questi risultati e che questi risultati debbano essere condivisi quindi è inevitabile quello che invece è evitabile e deve essere evitato è il fatto di non regolare questa situazione proprio perché qual è l'obiettivo di quello che generiamo insieme se l'abbiamo generato insieme ed è chiaro che quel soggetto che mi ha finanziato e che ha un pezzo della torta la vuole utilizzare tutta lui è semplice quando facciamo l'accordo dove lui mi dà i soldi gli diciamo anche i risultati saranno a metà ma sulla valorizzazione paghi tu le spese i brevetti eccetera la valorizzazione la fai tu mi puoi riconoscere qualche cosa posso vediamo ma il problema è risolto è diverso quando il risultato è congiunto e non ci siamo messi d'accordo su qual è il tuo interesse tuo privato finale perché io entro lo so benissimo quello che devo fare lo devo portare sul mercato tu sei un soggetto ma sei uno dei tanti il problema è che sei anche proprietario comproprietario di questo risultato e quindi tutte le volte che io decido di parlare con tizio tu puoi dire no non sono d'accordo e il comproprietario può porre il veto allora se questo signore sistematicamente mi pone i veti io la valorizzazione non la faccio ecco perché a maggior ragione in questi casi diventa importante regolare la situazione di cotidio e quello è un accordo dicendo uno mettiamo i nomi di ciascun inventore quelli devono essere indicati se facciamo una domanda di brevetto se facciamo il paper gli mettiamo il nome la proprietà intellettuale è mezza tua mezza mia benissimo mezza 50-50 o 70-30 e se siamo 3 33-33-33-33 come diceva Troisi oppure un pezzetto perché in funzione della quota di appartenenza paghiamo i costi e nella stessa misura otteniamo i ricavi quindi è importante sapere in quale misura partecipiamo e poi ancora più importante è chi gestisce questo brevetto condiviso lo gestisco io Ateneo perché ho un ufficio lo gestisci tu bisogna che scriviamo un algoritmo che dica chi prende le decisioni e come le prende tenuto conto che attaccato a quelle decisioni ci sono conseguenze di tipo economico se abbiamo deciso che nazionalizziamo il brevetto in 19 paesi c'è da tirare fuori tanti soldi e se siamo 50-50 vuol dire che metà di quei soldi me li devi dare tu quindi purtroppo dicevo la situazione di cotitolarità è inevitabile ma sono talmente tanti gli eventi che ai quali si fa incontro nella gestione della proprietà intellettuale che vanno tutti normati e ci sono degli standard quelli che si chiamano interinstitutional agreements cioè accordi interistituzionali prevedono già tutte queste casistiche ognuno ha i suoi e quindi se si prevede quel caso lo si regola ma se non lo si regola è un disastro perché la cotitolarità è un po' la cotitolarità della proprietà intellettuale è un po' come non lo so come il matrimonio è una cosa bellissima finché funziona quando poi va male è un disastro e quindi bisogna fare i patti prematrimoniali sono due ricchi che si sposano e non vogliamo finire bisogna fare gli accordi e disciplinare tutti questi aspetti e scusate dico l'ovvio difficile fare l'accordo quando il risultato è stato ottenuto perché a quel punto ciascuno tenderà a dire che è più suo è più di quell'altro io ci ho messo questo bisogna farlo il prima possibile questa è diciamo è veramente una buona è una buona pratica quella di regolare exante la proprietà intellettuale va bene allora se non ci sono altre domande io partirei dalla fine cioè partirei da qua no per ragionare delle varie forme contrattuali e capire anche come si strutturano questi questi accordi cioè assumendo una prospettiva non giuridica ma economica e tecnologica dicendo che l'attività di valorizzazione è un'attività dove noi dobbiamo sostanzialmente spostarci dalla ricerca verso il mercato tenendo conto di due coordinate il tempo qualche volta ce lo dimentichiamo e i soldi che spendiamo ora questa è una semplificazione di nuovo una semplificazione molto molto volgare no perché molto consulenziale diciamo perché fa vedere questi questi passaggi ma in realtà ogni tecnologia ha un suo come dire una sua via al mercato e soprattutto non è detto che queste fasi si equivalgano in termini di tempo in termini di intensità di fatica o di denaro no se pensate ad un'attività di sviluppo software queste due attività queste tre attività possono essere queste quattro attività possono essere relativamente contenute anche economicamente nel tempo e poi fare un prodotto magari richiede di più e venderlo può avere varie cose ma se siamo nella ricerca nelle scienze della vita nella ricerca biomedica l'idea arriva con una molecola una new chemical entity poi però bisogna iniziare a fare tutta una serie di screening e poi bisogna fare la fase di preclinica puoi andare sull'uomo uno, due, tre eccetera questa fase si allunga incredibilmente diventa molto costosa non c'è un prototipo quindi non c'è la fase prototipale c'è una fase clinica e poi però si arriva a un prodotto e poi si arriva ad una vendita e nel frattempo siamo arrivati a 10-12 anni e a tanti soldi però diciamo idealmente sappiamo che ciascuna tecnologia deve fare dei passaggi ora li fa nel tempo spendendo dei soldi se noi ci poniamo nella prospettiva tutta interna di un soggetto verticalmente integrato che fa tutto quanto lui tutto quanto lui questo soggetto prende delle decisioni razionalmente dicendo vabbè io so che il mio ufficio ha proposto il mio ufficio tecnico ha proposto questa soluzione mi serve un budget eccetera arriverò un prodotto lo venderò farò tanti soldi e così via quando lo stesso ragionamento lo deve fare l'ente l'ente di ricerca la prospettiva cambia perché l'ente sa benissimo che a un certo punto mentre mentre per arrivare sul mercato bisogna continuare a fare tutte queste attività l'ente si deve fermare perché finiscono i soldi e perché l'ente non fa prodotti fa ricerca quindi a un certo punto l'attività si ferma si ferma quando si ferma dipende dipende dalla natura del finanziamento dalla tecnologia dalla bravura dei ricercatori dipende da tanti fattori però c'è un momento in cui io ente fermo le macchine ci metto un bollino che testimonia che un risultato è stato raggiunto e vado alla ricerca di qualcuno che si faccia carico del resto delle attività nel resto del tempo e con il resto dei soldi che ci stanno da mettere tanti o pochi che siano quindi nella prospettiva dell'ente di ricerca questo è un percorso dove a un certo punto c'è un avallamento c'è una buca e là io mi fermo mi fermo con l'attività di ricerca ma devo continuare con l'attività di valorizzazione che significa soprattutto trovare il mio il mio il mio o i miei interlocutori ora questo lavoro è reso complicato dal fatto questo lavoro di cercare un interlocutore è reso complicato dal fatto che tutta questa specie di filiera questa concatenazione di eventi è dominata da tre tipologie di rischio tre tipologie di rischio che incidono sia sul se l'operazione si farà semmai qualcuno si farà carico di sia sul come la si farà perché questi rischi sono delle determinanti del contenuto del rapporto che noi andiamo a instaurare e mi spiego rischio tecnologico no che cos'è il rischio tecnologico è il rischio legato alla 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 soluzione che io ho realizzato che sto sviluppando ed è un rischio che mi porta a chiedere semmai questa soluzione funzionerà funzionerà nei vari non è che deve funzionare una volta deve funzionare in laboratorio ma poi deve funzionare fuori dal laboratorio deve funzionare a livello prototipale o clinico e poi deve funzionare sul mercato no e esistono delle tecnologie dove questo rischio lo si gestisce un po' alla volta tipicamente la ricerca biomedica di questo è io ancora arrivo in fase 3 e non so se questa molecola arriverà all'autorizzazione dell'emissione in commercio quello è il rischio tecnologico se fa male se fa bene se sono tutti effetti placebo non lo so ma non c'è modo di saperlo se non andando avanti posso utilizzare delle tecniche di simulazione piattaforme eccetera ma che che mi un po' mi riducono ma quando l'attività è regolata l'attività di gestione del rischio tecnologico è regolata io non posso fare altro che andare avanti per far scendere questa curva che ovviamente scende man mano che io vado da un passaggio a quello successivo e qua però il rischio tecnologico non va mai a zero asintoticamente sta sempre là un pochino perché perché benché io sappia molto della tecnologia ci sono alcune cose che vengono fuori soltanto dopo tanti anni che l'asbestos facesse male noi abbiamo saputo dopo che avevamo tappezzato il mondo che quel farmaco ha quella cosa lo sappiamo dopo che questo tagliaerba meraviglioso che fa l'erba taglia farcia anche le gambe dei giardinieri in certe condizioni lo sappiamo dopo il rischio tecnologico cioè sul se funziona quando il prodotto è sul mercato diventa il rischio della difettosità del prodotto che è un rischio serio per l'azienda perché l'azienda che adesso ci ha messo il suo marchio dice si chiama no Aulin Nimesulide eccetera quindi il paziente sta male tu paghi certo ma se l'azienda quel prodotto lo ha fatto derivare da una tecnologia che ha comprato è verosimile che quando compra chieda al venditore la garanzia e gli dica guarda che però se poi succede qualche cosa tu mi devi aiutare mi devi aiutare perché è vero del prodotto sono io responsabile ma potremmo dover fare delle cose assieme adesso probabilmente questo nella ricerca medica è meno è meno sentito anche se ci può essere no però per esempio dispositivo biomedicale che ha del software a bordo e il software me l'ha fatto una start up brava bravissimi il dispositivo non funziona più bene per via del software produce un danno io pago ma il software me l'hanno dato quei signori quindi è verosimile che nel contratto con il quale io ho acquisito quella risorsa mi sia fatto dare delle garanzie quantomeno me lo sostituisci mi fai il debug qualche cosa perché vi dico questo perché nei contratti di trasferimento di tecnologia molte volte ci sono dei capitoli anche molto lunghi in cui il licenziatario il compratore della tecnologia chiede al licenziante proprietario della tecnologia delle garanzie e sono garanzie che riguardano il rischio tecnologico anche dopo l'immissione del prodotto in commercio per esempio se io sono soggetto ad una campagna di richiamo tu devi venire con me a verificare se il prodotto è legato al software oppure alla macchina che ho fatto io o al software che hai fatto tu no capite quindi no certo allora capite che la materializzazione di questo rischio in fase successiva all'emissione in mercato si può gestire in tanti modi tipicamente l'assicurazione tipicamente la autoassicurazione crea una posta di denaro eccetera ma non è tanto il risarcimento del danno è che io adesso ho 10.000 ecografi sul mercato che danno tutti un problema e quello che diciamo il paziente non verrà più curato con l'ecografo non verrà più utilizzato l'ecografo ma gli ospedali diranno ma adesso io che ci faccio me li devi aggiustare allora li aggiusto io oppure devo chiedere aiuto a quel signore che mi ha offerto che mi ha dato il software e lo facciamo insieme quindi c'è un problema anche di no gestione di questa di questa di questa crisi esattamente che è un problema ve lo dico chi di voi farà spin off o magari vi è già capitato tutte le volte in cui lo spin off si inserisce in una filiera un po' più grande e fa una fase c'è questo problema che l'azienda gli dice sì però tu mi devi garantire che questa cosa funziona ma è come io ti do un pezzetto così va dentro una cosa grande che poi va ancora in una cosa grande io ti devo garantire ti garantisco per la parte però poi in certi limiti con certi accorgimenti eccetera e poi chiaramente questa garanzia viene meno col passare del tempo però c'è un momento di osservazione no c'è la farmacovigilanza ma in tutti i settori c'è un momento in cui il prodotto va sul mercato e la prima difettosità è quella più importante pensate all'automobile quando fanno la campagna di richiamo dovete riportare l'automobile perché c'è quella vite che non tiene più ma quella vite non è detto che l'abbia fatta Stellantis magari l'ha fatta un fornitore di un sub fornitore di un altro cosa e quindi tutta la filiera si deve allora ripeto se io sono Stellantis questo rischio me lo gestisco io ho anche una statistica che mi consente di dire ogni quanti casi si verifica questa difettosità nel dispositivo questa statistica la posso far vedere all'assicuratore che mi assicura in funzione delle previsioni via discorrendo no ma questa tecnologia non è la mia è una rete neurale addestrata su delle immagini ecografiche che serve a individuare delle masse ovariche soggette a fenomeni di carcinoma e me l'ha data l'università X quindi io è un prodotto nuovissimo non è mio non c'è statistica ma tutti quanti iniziano a comprare l'ecografo mio perché dentro c'è quell'oggetto quindi ho un incentivo a farlo quando acquisisco la tecnologia ho esattamente questo problema di gestire anche il rischio che si materializza dopo anche perché prima quanti ce n'ho di rischi che devo gestire questo è un happy problem perché poi magari è una difettosità di uno su dieci milioni il problema io ce l'ho quassù perché se non inizio a fare attività di ricerca il rischio è altissimo ma alle volte continua ad essere alto nonostante la mia attività di ricerca e trovare qualcuno trovare un interlocutore che si faccia carico di fare con me o fare al posto mio tutte queste altre attività quando il rischio tecnologico è alto è molto difficile quindi qua il problema non è come faccio il contratto è se lo faccio perché quel signore mi dice guarda bello ma non riesco non riesco a vedere ecco perché prima ho usato volutamente questo termine c'è un avallamento perché la valle della morte è esattamente questo questa immagine che ricorre in letteratura la valle della morte è una situazione nella quale l'attività di ricerca è arrivata a un punto per cui si individua un risultato ma il rischio tecnologico è ancora significativamente alto per cui un privato se ne possa fare carico quindi l'ente da una parte dice io ho finito i soldi ho finito anche la mia missione io non faccio prodotti e quell'altro dice io faccio prodotti ma a questo livello di rischio non me la sento e in mezzo c'è un buco c'è una faglia e diciamo scientificamente si dice che questo succede tra altri TRL 4 e 5 quando manca la proof of concept quando mancano una serie di attività che noi chiamiamo di derisking derisking vuol dire di abbassamento del rischio tecnologico che faccia intravedere all'investitore quello che sta giù giù in fondo e gli faccia intravedere una qualche verosimiglianza se non una probabilità di raggiungere il mercato in una qualche forma e ecco perché allora il mercato ha dato vita a ha dato vita a questi accordi no? di proof of concept o a degli strumenti tipo il bando dell'UBM sulla proof of concept oppure fondi specializzati che fanno proof of concept dove dicono guarda il mio mestiere è quello di assorbire rischio lo faccio mettendomi d'accordo con te dicendo io ti finanzio quell'attività che serve per la validazione e ovviamente ci mettiamo d'accordo poi sullo sfruttamento tenuto conto qua c'è una situazione paradossale perché la proof of concept diciamo il costo di una proof of concept varia tra 20 e 250 mila euro quindi sono pochissimi soldi non nel settore delle scienze della vita perché se quell'azienda mi dice no devi fare almeno un piccolo studio preclinico i soldi sono tanti di più quando vi dico attenzione a ragionare nei termini della specificità tecnologica però è un paradosso perché per molte tecnologie la proof of concept è poche migliaia di euro però se non c'è qualcuno che ce le mette la tecnologia non va avanti quindi il livello di rischio tecnologico può dar vita alternativamente a diciamo tre situazioni una qua giù che si risolve nello stabilire nel contratto le garanzie tra virgolette che il proprietario della tecnologia dà all'impresa che porta il prodotto sul mercato le altre due soluzioni sono rischio assolutamente alto non si trova l'interlocutore rischio moderatamente alto l'interlocutore si trova però o è un interlocutore che mi finanza la proof of concept quindi è molto specializzato oppure è un'impresa che a quel punto però dice attenzione io mi ingaggio cioè divento il tuo partner per fare questa attività ma il contenuto del contratto che facciamo in questa fase è molto diverso da un contenuto del contratto che faremmo se la tecnologia fosse più matura validata testata eccetera eccetera quindi aspettati una serie di cose uno che io non ti pago nessun prezzo adesso a fronte non ti do nulla per avere per avere la licenza o se ti do ti do un pezzettino primo secondo perché io devo investire quindi te li darò dopo quindi aspettati di ragionare in termini di condivisione del successo ma dopo uno due scordati che io mi accontento di una licenza non esclusiva perché il rischio è così alto deve passare così tanto tempo devo spendere così tanti soldi che se facciamo un accordo è un accordo esclusivo che è quello che tipicamente succede nel mercato farmaceutico biotecnologico rischio alto tanti soldi tanto tempo morale della favola licenza esclusiva e poi tutta una serie di accorgimenti lungo la strada perché io dico portare un prodotto software sul mercato è relativamente facile dico relativamente perché fare un prodotto software fare poi il prodotto non è banalissimo però nulla in confronto a portare un farmaco in fase 3 ma c'è una diversità nel percorso tra un software e un farmaco perché il percorso del farmaco è un percorso regolato ci sono degli scalini no? e in corrispondenza di quegli scalini ci sono delle statistiche che rendono prevedibile il percorso allora quando facciamo l'accordo che è in principio un accordo esclusivo eccetera noi possiamo anche fare in modo che in questo accordo ci siano delle milestones stiamo già determinando il contenuto dell'accordo c'è un accordo che dice tu fai questa attività poi dobbiamo arrivare a che cosa? a fare un piccolo studio preclinico eccetera poi facciamo sulla pecora o sul maiale poi andiamo cerchiamo un'approvazione del comitato etico andiamo in fase 1 fase 2 questi scalini identificano che cosa? identificano dei momenti in cui il rischio scende quindi inevitabilmente il rischio tecnologico sta scendendo e implicitamente questo è un discorso diciamo dalle implicazioni finanziarie il valore della tecnologia sta salendo perché io mi sto avvicinando di più al mercato allora questo legittima il titolare della tecnologia a dire benissimo io adesso non ti chiedo nulla però man mano che noi andiamo avanti io ti aiuto a salire lo scalino tu mi devi dare qualche cosa infatti molti accordi nel settore biotecnologico e farmaceutico prevedono quelle che si chiamano delle milestone fisiche cioè dei corrispettivi a milestone dove si dice c'è un incrocio laggiù se ci arriviamo e decidiamo di andare avanti perché abbiamo fatto la milestone tu mi paghi un pezzettino e il giorno dopo ricominciamo a fare l'altro pezzo di strada se non abbiamo raggiunto la milestone il rapporto si scioglie quindi sono diciamo sono contratti condizionali sono degli algoritmi molto se volete anche molto elementari dove si dice se succede una cosa allora questo se ne succede un'altra e non è che succedono tantissime cose perché o la milestone l'abbiamo fatta oppure non l'abbiamo fatta se l'abbiamo fatta andiamo avanti mi paghi un pezzetto eccetera eccetera è un modo per gestire il rischio il rischio tecnologico ed è un modo per attenzione è un modo per tenere allineati questi interessi perché se questo signore vede i soldi soltanto forse alla fine e questo signore non vede che va avanti e non è allineato a svolgere non la fa l'attività quindi di nuovo se voi chiedete qual è l'optimum per l'azienda l'azienda vi dice l'optimum è che ti do poco subito arrivederci e grazie eccetera peccato che quello non serve non è sufficiente ad allineare gli interessi quindi questa idea della scansione questa idea delle milestone serve esattamente a questo serve a non esporre l'azienda a un rischio non necessario se non vuole andare avanti ma al tempo stesso motivare soprattutto i ricercatori a fare quella attività a un certo momento questo rischio scende scende ragionevolmente e poi c'è un momento in cui diventa diciamo non è più tale da impedire la commercializzazione del prodotto perché ho portato i dossier all'EMA all'FDA li ho portati all'AIFA e c'è scritto che questa cosa funziona che la mortalità è inferiore al eccetera 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 mi danno l'autorizzazione missioni di commercio e sono sul mercato che cosa è successo nel frattempo c'è un altro rischio che si atteggia lungo la catena e che è determinato vedete che questo rischio tecnologico è determinante di tante cose perché è determinante quando sta qua su del se si fa l'accordo quando è più giù di come si fa l'accordo e quando è qua giù qua giù di come si fa l'accordo nella parte relativa alle garanzie qua sui corrispettivi e qua sulle garanzie poi c'è il cambiamento che riguarda il rischio il rischio di mercato il rischio di mercato è bene tecnologia meravigliosa ma si venderà mai? e cosa che interessa molto di più all'interlocutore commerciale quanto si vende? è un prodotto di nicchia o è un prodotto di massa? è un prodotto che va al consumatore finale perché è un'app o è un prodotto che va ad un'azienda perché è un processo produttivo un materiale eccetera si vende perché sul mercato consumer richiede bassissimi livelli di compliance per esempio uno standard di compatibilità elettromagnetica oppure serve una regolazione pesante come un prodotto farmaceutico si vende perché c'è un prezzo regolato oppure il prezzo è libero lo posso definire io e via discorrendo ci sono tutta una serie di domande che l'azienda si fa e alle quali non ha risposta e non ha risposta fin tanto che la vera risposta arriverà quando sta sul mercato se vende un esemplare vuol dire che funziona ma deve acquisire ha bisogno di informazioni man mano che procede per capire per rispondere a tutte queste domande uno allora stiamo sviluppando un farmaco orfano perché è una malattia oppure l'epatite A, B, C, D eccetera queste domande dicono che cosa dicono quanto è grande il mercato qua in fondo le case farmaceutiche prendono queste decisioni in maniera molto razionale e calcolata anche quanto possono pagare per le milestone è calcolato in funzione del risultato che si attengono utilizzano metodi di valutazione basati su le opzioni reali Monte Carlo albero delle decisioni cioè dicono se io arrivo sul mercato il calcolo lo fanno a ritroso cioè io arrivo sul mercato e il mercato mondiale quello che si chiama total addressable market vale diciamo 500 miliardi dico dei numeri a casaccio ok io del mercato mondiale di questi farmaci ho il 10% ok quindi arrivo a vendere per 50 so che se arrivo su quel mercato con la mia quota di mercato arrivo a vendere per 50 ma se ci arrivo dipende da che cosa se ottengo l'autorizzazione all'ammissione in commercio che dipende da fase 3 che dipende da fase 2 che dipende da fase 1 che dipende da fase preclinica che dipende da tante altre cose esistono delle statistiche che dicono qual è la mortalità qua qual è la mortalità qua qual è la mortalità qua quindi loro riescono a diciamo con delle regressioni a capire qual è il valore atteso di questo farmaco che se arriva sul mercato con probabilità 1 mi fa guadagnare 50 qual è il valore in corrispondenza di queste fasi quindi possono dire guarda che quando passiamo dalla fase 1 alla fase 2 il rischio si è ridotto del 37% sono molto precisi vuol dire che la mia aspettativa di guadagno è non 50 ma 19 ti posso dare un pezzetto qua la mia aspettativa di guadagno aumenta perché il rischio si riduce ti do un altro pezzetto e via discorrendo quindi è fatto tutto molto come dire razionalmente prego l'analisi di mercato io sono un po' ignorante in materia da questo punto di vista l'analisi di mercato che fa l'azienda per capire qual è la fetta del market value che lei poi andrà a sopperire ma come viene fatta cioè sulla base dell'importanza cioè quanto pesa l'importanza scientifica del prodotto no 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 è molto più prosaica la cosa funziona così loro dicono ci sono delle società specializzate che stimano quanto vale il mercato del farmaco sul carcinoma alla mammella oppure quanto vale quindi più è precisa l'ambito terapeutico più sanno dire e l'azienda sa ciascuna azienda sa qual è la sua quota di mercato che è un pezzetto di quel totale quindi dice io mi aspetto per ragioni di produzione di distribuzione di brand eccetera eccetera che quando arriverò sul mercato con quel prodotto avrò una quota corrispondente a quella che ho oggi 3% 2% 5% che commisurata al totale fa X quindi ho un'aspettativa di guadagnare X è chiaro che così come loro hanno sanno qual è la probabilità di successo sanno anche quanto costa passare da una fase all'altra quindi se alla fine fatta uno la probabilità di arrivare a guadagnare 50 milioni il costo è 49 loro mi dicono io non inizio per niente ecco perché alle volte non funziona il farmaco orfano perché il mercato che io mi attendo è talmente piccolo e questi costi qua purtroppo non scalano perché io devo arruolare i pazienti la fase 1 la fase 2 ci sono soldi poi c'è il problema c'è il regolatorio paga il consulente i brevetti che nel frattempo hanno iniziato a costare tantissimo e alla fine il calcolo razionale che loro fanno è il gioco non vale la candela posso chiedere un'altra cosa per quello che riguarda tutta la parte di clinical trial eccetera ma chi la paga poi alla fine la parte tutta la fase di trial la paga sempre l'azienda quindi l'azienda paga a me la milestone se arriva alla fine della fase X però il costo vivo della cosa il costo vivo della cosa la sostiene lei trovare chi opinion leader trovare i centri se fanno multicentrica capire chi farà quanti pazienti poi hanno i consulenti in regolatorio che dicono guarda qua possiamo fare 15 nuovi pazienti poi facciamo una pecorella poi un maialetto poi first in man 50 queste cose sono assolutamente assolutamente e poi c'è il problema guardate io alla fine di tutto questo attengo l'AIFA poi devo andare in Europa mi serve l'EMA poi devo andare negli Stati Uniti mi serve l'FDA quindi sono tanti tanti soldi per arrivare a vendere prego se mi cambiano le regole e gli standard è sempre l'impresa tipo high risk medical device cosa succede in quel caso questo è il problema oggi con l'MDR c'erano tutti dei dispositivi in sviluppo adesso è cambiata la regola è diventato un incubo avere la marcatura CE quello fa parte del rischio di impresa fa parte attenzione fa parte del rischio di mercato no? perché il prodotto è sempre quello l'efficacia è sempre quella però adesso mi dicono che prima bastava fare certe cose adesso è diventato più complicato ed è chiaro che il cambiamento normativo è come dire è fattorizzato dentro tutti gli algoritmi che l'azienda prende quando diciamo usa quando deve prendere delle decisioni perché sanno che cambia la normativa per fortuna non cambia da un momento all'altro hanno delle antenne e dicono cambierà per cui acceleriamo eccetera però quando il governo Bush figlio mise fuori legge la ricerca sulle cellule staminali vi ricordate tutte le aziende quotate all'Asdac che facevano stem cell sono precipitate c'è un pazzo in circolazione questo è purtroppo fa parte dei rischi di impresa fa parte del rischio in questo caso del rischio di mercato il cambiamento della normativa che è tipico dei settori fortemente regolati ma è tipico anche dei settori per esempio dell'energia io ho fatto un business plan che dice che il gas e poi c'è il prezzo il cap del gas o mamma mia oppure fotovoltaico la mia domanda si ricollegava ai farmaci orfani anche perché il campo degli antibiotici si può un po' confrontare a questo perché le vendite degli antibiotici innovativi vengono comunque mantenute al minimo per evitare resistenza e quindi molte industrie farmaceutiche non investono in questo campo quindi volevo chiederle se come funziona in Italia se c'è qualche non so il problema non è solo italiano sapete il problema tant'è vero che esistono dei programmi di finanziamento degli orphan drugs ci sono delle procedure accelerate dal punto di vista regolatorio per arrivare quindi quello è tecnicamente un fallimento di mercato cioè noi abbiamo un bisogno conclamato che però riguarda una parte piccola della popolazione e il costo per soddisfarlo è inferiore è superiore di gran lunga ai benefici quindi nessuno si ingaggia e allora gli devo dare delle risorse tant'è che anche l'Unione Europea finanzia ricerche su antibiotici anche su i non antibiotici visto che poi c'è un problema di inquinamento che è anche un problema di regolazione perché se a un certo momento mettono fuori legge certi antibiotici perché hanno inquinato le falde eccetera eccetera quello è anche un problema quindi quello lo si risolve sul piano è un problema affrontato e risolto sul piano regolatorio sia a livello di finanziamento che a livello di procedure accelerate quindi si accontentano è chiaro dici ma glioblastoma no una cosa che ha un'incidenza piccola però muoiono i bambini con glioblastoma come faccio a reclutare 5.000 pazienti non ce li ho 5.000 pazienti perché ho un'incidenza che è inferiore al numero minimo di soggetti è chiaro che là la procedura regolatoria dimagrisce e questo è un problema è il problema di sempre dal punto di vista regolatorio cioè quanto debbo alzare o abbassare l'asticella con il rischio di fare falsi positivi o falsi negativi era come i farmaci come è il film quello con Matthew McConaughey sui farmaci anti AIDS se si abbasso l'asticella il farmaco entra presto in commercio però magari muore la gente perché ha degli effetti collaterali che non avevamo previsto se alzo l'asticella ci vuole più tempo però nel frattempo la gente muore lo stesso di AIDS sono scelte drammatiche che i legislatori devono fare ovviamente nella misura in cui ci sono soldi sulla ricerca anche per gli alfandrags il problema è attenuato però è sempre un problema antibiotici alfandrags dispositivi medicali di un certo tipo e via discorrendo perché qua la decisione viene presa molto razionalmente viene presa molto razionalmente soprattutto pensate le aziende quotate l'azienda quotata che rende trimestralmente il conto agli investitori deve dire ma perché avete iniziato a investire in un farmaco che non porterà a nulla perché l'amministratore delegato era fissato non è una buona motivazione fuori l'amministratore delegato dentro un altro ci sono anche queste dinamiche che riportano all'allineamento di interessi cioè la logica dell'azienda è una logica di un certo tipo che risponde a una certa razionalità io devo prevenire questo è un errore che fanno spesso i ricercatori quando fanno gli spin off c'è un prodotto incredibile tanti campi noi iniziamo con quel mercato che è una nicchia va benissimo ma non ti aspettare che un investitore ci venga l'investitore vuole vedere i ritorni e i ritorni tu con la nicchia non li fai perché dovrebbe essere più diciamo sì vengono consigliate c'è qualcuno però è assicuro se voi andate a parlare con un investitore dicessi togliamo la nicchia parliamo del mercato grande anche perché guardate la nicchia è una zona di comfort cioè io vado in quella nicchia perché è quella che conosco meglio dovrebbe essere quella diciamo lo scalino più grande perché dopo dovrebbe essere invece di io vado in quella che è semplice poi dopo però vado là perché là non è regolato sì ma quando poi dovrai andare sul mercato grande il problema ce l'avrai quindi su queste cose bisogna stare un po' attenti anche ai consigli che si danno ve lo dico per esperienza perché l'investitore non guarda o è un investitore molto specializzato ci sono dei fondi io ne conosco un paio di fondi sulla East Coast negli Stati Uniti che fanno solo Orphan Drugs no? vanno dagli investitori che gli danno i soldi chi sono? sono fondazioni non sono i fondi pensione che devono sono le fondazioni di beneficenza ricchi eccetera dici guarda io sviluppo porto sul mercato farmaci che nessuno ha benissimo io ti do i soldi è quello specializzato sa come si fa le sue statistiche degli ospedali dove fa l'attività clinica che sono fidelizzati eccetera eccetera che ha delle sue economie ma la maggior parte del mondo non va in quella direzione per intenderci ma non ci rientrano lo stesso non ci rientrano lo stesso guardate le statistiche dell'organizzazione mondiale della sanità dicono che oggi un blockbuster quindi non di nicchia ma il campione delle vendite un blockbuster è uno che sta nei primi 20 12 anni di sviluppo 1 miliardo e 2 e ancora in fase 3 io ho una probabilità di fallimento mostruosa quindi quando gli ordini di grandezza sono questi la decisione è veramente e poi vi dico anche un'altra cosa certe scelte di acquisizione della tecnologia e quindi di gestione del rischio di mercato e del rischio tecnologico sono alle volte anticicliche o comunque controintuitive perché quando diciamo la pipeline delle aziende è secca perché non hanno prodotti si accontentano di un rischio alto quindi io devo scommettere quando c'è molta liquidità dicono quando il mercato quando invece c'è meno liquidità o al contrario quando la pipeline è ricca dicono vabbè sì portatemi in fase 1 e allora poi ne parliamo peccato che io per arrivare in fase 1 devo trovare dei soldi che non ho quindi va tenuto anche conto della della congiuntura quando ci sono molti me lo ricordo in una conferenza della licensing executive society negli Stati Uniti nel 2002 c'era uno che già parlava di proof of concept e diceva ma la proof of concept non è un problema perché quando ci sono tanti soldi in giro gli investitori pagano anche la proof of concept quando non ci sono i soldi in giro non pagano nemmeno quello che è una proof of concept quindi il problema non si pone nemmeno questo dice che il contesto nel quale ci muoviamo rende più o meno difficile l'attività di trasferimento tecnologico io sentivo stamattina la radio il fondo monetario internazionale dice che nel 2023 saremo in recessione tecnica che cosa succede nei fasi di recessione le aziende comprano tecnologia o no o tirano i remi in barca questo fa la differenza se sono più attenti al rischio evidentemente chiederanno più garanzie e quindi negoziare sarà più complicato e l'accordo sarà più a loro favore ci sono anche questi fattori da tenere presente fattori anche geopolitici geopolitici non c'è l'energia non ci sono le materie prime no abbiamo questa bellissima tecnologia per fare i pannelli fotovoltaici peccato che per fare i pannelli fotovoltaici serve il silicio serve il litio serve l'argento per fare la metallizzazione servono tante cose da dove le prendiamo dalla Cina dalla Russia diventa un po' più complicato oggi tutte le supply chain sono in crisi anche per questo allora torniamo al rischio al rischio di mercato il rischio di mercato diciamo è un rischio che si gestisce così anche no qua il rischio di mercato come dire è fortemente condizionato dal rischio tecnologico perché io so che il mercato c'è se mi dicono che quella è una malattia gravissima e non c'è risposta è Parkinson io so benissimo che se arrivo su quel mercato ne avrò una fetta grande il problema è quando ci arrivo e come ci arrivo e ovviamente la curva del rischio di mercato inizia a scendere quanto più vicina è la tecnologia al prodotto quindi tipicamente a livello prototipale se parliamo di oggetti che vanno soggetti a prototipazione il rischio inizia a scendere perché inizia a scendere io inizio a capire qual è la fattibilità tecnica quanto scala nella produzione qual è il packaging chi me lo fornisce dove l'assemblo pensate a un dispositivo medicale no? sì funziona funziona l'abbiamo provato sul manichino poi l'abbiamo provato sull'animale poi l'abbiamo provato sull'uomo adesso bisogna farlo mi serve il nitilon poi mi serve il coso poi mi serve queste robe costano devo iniziare a fare una bomba una bill of material una lista della spesa per dire quanto costa costa X X è tanto perché se costa X e ci devo mettere il margine sul mercato lo dovrò vendere a X più 30 a X più 30 non se lo compra nessuno allora devo ridurre questa X come faccio? scalando la produzione si iniziano a fare tutta una serie di valutazioni che però fa il compratore della tecnologia non le fa il TTO perché gli mancano i dati no? gli mancano i dati però deve sapere quali sono queste diciamo le valutazioni che vengono effettuate in questa fase e vi dicevo il rischio di mercato poi scende e va a zero perché quando il prodotto è sul quando il prodotto si vende vuol dire che il rischio non c'è più può subentrare l'altro rischio l'altra componente di rischio di mercato cioè quanto si vende no? perché o non era un mercato di nicchia era un mercato di massa abbiamo fatto un prodotto che prima non c'era e non lo vuole nessuno e anzi la letteratura di management dell'innovazione che cosa dice? dice che i prodotti ad alta tecnologia hanno una domanda la famosa domanda a esse all'inizio non le vuole nessuno poi c'è un effetto me too tutti quanti lo vogliono e poi la domanda diventa piatta e ci sarà il nuovo prodotto lo smartphone no? tante altre cose quindi all'inizio caspita le vendite non prendono e quindi il rischio di mercato si è trasformato in rischio di poco mercato come lo si gestisce? è un problema solo del solo dell'impresa o anche un problema del titolare della tecnologia? è un problema di tutte e due perché verosimilmente l'azienda poi lo vedremo dopo l'azienda licenziataria mi dirà guarda che io ti pago ma ti pago in funzione dei volumi che io faccio sul mercato cioè la tua remunerazione deve essere in qualche modo proporzionale non proporzionale legata alla mia cioè se va bene va bene a tutte e due e se va male va male a tutte e due proprio perché io mi sto facendo se tu mi dai il prodotto e questa curva rossa è qua lo vediamo subito se questa rossa è qua vuol dire che quella gialla è già giù vuol dire che tutto è sceso ma tu me lo stai dando noi stiamo facendo un accordo qua e io andrò sul mercato qua e venderò ancora più in avanti quindi ho bisogno di vedere e come me devi vedere tu quindi io anche quando facciamo un contratto a milestone ti do un pezzettino un pezzettino qua un pezzettino qua un pezzettino qua un pezzettino qua alla fine io sto facendo 50 miliardi di fatturato e a te ho dato complessivamente 1,2 milioni come sarebbe benissimo se vuoi partecipare dei 50 ti devi accontentare di un corrispettivo variabile cioè quando io farò 50 tu ne avrai fatto un pezzo e siccome io non li faccio tutti insieme ne faccio anno per anno un po' alla volta io te ne do un po' alla volta questa è diciamo la logica alla quale risponde il meccanismo della royalty la royalty è un modo di condivisione del rischio di mercato che significa man mano che andiamo avanti e il prodotto inizia ad avere presa c'è un inflection point e poi inizia a salire io accetto di condividere poi vedremo come accetto di condividere il successo e tu accetti di condividere il rischio che invece la curva non cresca così rapidamente e poi c'è il rischio di protezione quello che io chiamo il rischio di protezione il rischio di protezione è tutto legato alla la dico così alla conservazione del vantaggio competitivo che cosa vuol dire questo? vuol dire che per l'ente che produce la ricerca il risultato di ricerca il risultato di ricerca è un risultato di ricerca è il prodotto dell'attività istituzionale che fa l'ente e va benissimo ma per la per l'impresa che quella tecnologia deve acquisire la tecnologia il risultato della ricerca è una fonte di vantaggio competitivo sto dicendo che io avrò un prodotto che altri non ha oppure avrò un processo che mi farà produrre a un costo più basso di quello dei miei concorrenti mi farà arrivare prima degli altri quindi vado alla ricerca di vantaggio competitivo acquistandolo all'esterno acquistandolo in questo caso dalla ricerca pubblica benissimo e il problema del vantaggio competitivo o c'è o non c'è no? quindi o questo farmaco è candidato a quella patologia o non lo è accetto tutto il rischio ma in linea di principio deve essere candidato il tema è come me lo conservo questo vantaggio competitivo perché ce l'ho ma se ce l'ho io e ce lo possono avere tutti gli altri si riduce si annulla e la risposta è diritti di proprietà intellettuale no? è tutela del segreto è utilizzo di tutti quegli strumenti che la legge mi consente di utilizzare per assicurarmi il controllo sull'innovazione il quale controllo attenzione non serve a costruire il vantaggio competitivo questo io diciamo il vantaggio competitivo me lo dà l'innovazione me lo dà la ricerca me lo dà l'intelligenza me lo dà la competenza me lo danno le persone se Valentino o Dolce Gabbana fanno vestiti belli li fanno a prescindere dal fatto che siano protetti da marchi di ritero sono belli la gente se li compra se questo farmaco risolve questo problema è la soluzione che mi dà il vantaggio competitivo il fatto che io la brevetti non aumenta la capacità diagnostica prognostica o terapeutica di quell'oggetto capite? non è che se è brevettato funziona meglio se è brevettato dura di più il momento in cui l'utilizzatore conserva questo vantaggio competitivo quindi i diritti di proprietà intellettuale e gli strumenti di tutela del segreto servono alla conservazione del vantaggio competitivo non alla sua creazione falliscono aziende che hanno tantissimi brevetti e hanno successo tante aziende che hanno uno straccio di brevetto la differenza la fa quello che c'è sotto no? ma mentre nella prospettiva dell'ente che genera l'innovazione questa innovazione esiste e continua ad esistere ad una sua funzione legittimante anche se io non l'ho protetta a quel signore che ci deve mettere i soldi per i prossimi anni e portarlo al prodotto interessa l'innovazione ma interessa anche la conservazione del vantaggio competitivo e qua subentra il tema della qualità della protezione qua subentra il tema del rischio di protezione cioè qual è la probabilità che io affronte di una innovazione capace di darmi vantaggio competitivo la perda a vantaggio dei miei concorrenti che semplicemente si disperda e guardate questo diciamo il rischio di protezione è il più è il più pernicioso perché è sempre là è sempre là quando la soluzione è ancora solo una soluzione teorica abbozzata quindi non abbiamo ancora depositato domande di brevetto c'è un tema di conservazione del segreto quando abbiamo fatto la domanda di brevetto c'è un tema di me lo porto a casa il brevetto quali rivendicazioni in quali paesi con quali costi sono fatte bene queste rivendicazioni o mi sorpassano a destra perché mi sono dimenticato quella frasetta eccetera e anche quando il brevetto è fatto bene o indipendentemente dal fatto che sia fatto bene c'è un tema di sul mercato di contraffazione o ho il vantaggio competitivo ho un sacco di brevetti e mi copiano ma va che ti aspettavi che copiassero quello che ha il prodotto schifoso e i brevetti che non valgono nulla è chiaro che la contraffazione l'imitazione è il prezzo che paga chi ha successo noi imitiamo le borse di Louis Vuitton non imitiamo le borse di uno che non conosciamo e quindi anche questo rischio si trasforma ma c'è sempre è un rischio di come poi io monitoro il mercato e punisco i contraffattori quando si trasforma è ormai un rischio dell'impresa perché c'è lei sul mercato sa lei dove vende eccetera ma attenzione vi ridiventa un problema per per la lente titolare del brevetto perché quando io prendo il contraffattore con le mani sporche di marmellata e gli dico guarda hai copiato il contraffattore come si difende dice ma no non è vero quello che io sto facendo è stato dell'arte guarda tu hai scritto così nel brevetto io faccio quest'arte by the way by the way se proprio ci vedi delle sovrapposizioni è perché il tuo brevetto è invalido quindi io adesso te lo faccio invalidare ma il brevetto non è dell'impresa l'impresa è licenziataria il brevetto è dell'ente quindi l'ente si ritrova coinvolto in una causa di invalidità per un brevetto che sta utilizzando qualcun altro e quindi questo aspetto va regolato nella licenza non è che va regolato dopo va regolato nella licenza dicendo cara cara ente che mi dai il brevetto sappi che quando si verificherà questo rischio se si verificherà perché è un rischio magari non succede nulla ma se si verificherà e chiederanno l'azione di nullità all'ufficio europeo all'ufficio italiano all'ufficio americano ricordati che tu mi devi far venire i ricercatori a dimostrare che questa cosa si effettivamente ha altezza inventiva è sufficientemente descritta è nuova e via discorrendo perché io non non ero presente nelle fasi di scrittura del brevetto non lo so come l'avete fatto ma tu mi devi dare la garanzia quindi vedete c'è una retroazione quella trasformazione di questi rischi retroagisce sul momento genetico di composizione degli interessi tra le parti domanda e allora prima della descrizione di questo rischio pensavo di avere una domanda idiota in testa io sono in fase di scrittura brevetto saprei anche già con quale azienda eventualmente fare un accordo di ricerca e sviluppo perché io non posso assolutamente permettermi nel mio IRCS di fare tutte le prove anche in preclinica della molecola che ho studiato e di tutte le sue sorelle che sono 13-18 cosa faccio? la coinvolgo nella sesura del brevetto così quanto meno sollevo me e l'istituzione da grane che potrebbero a questo punto incorrere con questo tipo di rischio perché dal punto di vista degli altri due mi pareva ovvio dire che cavolo mi sto tagliando praticamente da solo la possibilità di avere una bella fetta di percentuale inventiva sul brevetto e di proprietà del brevetto eventualmente non io ma la mia istituzione perché poi così rientra una bella aziendona che se ne fa quello che se ne fa fino a un certo punto però poi se va bene ha voglia quanto ci guadagna che faccio? me lo dice dopo no no ci prendiamo un caffè perché questo avevo detto che facevamo pazzi no così lo iniziamo perché questo è un problemino mica da niente è un problemone diciamo è esattamente una estrinsecazione del rischio del rischio di protezione perché io là sono tra l'incudine e il martello cioè vado avanti da solo e fotografo quello che io so o faccio intervenire qualcuno che però a quel punto dirà vedi che questo pezzetto te l'ho aggiunto io allora è anche un po' mio e quindi perché mi sta venendo l'ansia di scrivere un brevetto zoppo nel senso o quantomeno di non essere in grado di dare indicazioni al mandatario brevettuale di scrivere un brevetto così perfetto che non faccia poi incorrere a rischio di protezione l'azienda che ho già in mente di chiamare in causa è così facciamo una piccola pausa e riprendiamo da questo grazie ricominciamo dalla domanda difficile no la domanda difficile è una domanda difficile e come tutte le domande difficili è una domanda intelligente perché sottende la grande questione della la dico così per semplificare della qualità della proprietà intellettuale no qua utilizzo un concetto che appartiene ad un'altra ad un'altra scienza però a che cosa a che cosa serve la proprietà intellettuale all'impresa lo abbiamo capito no si deve conservare un vantaggio competitivo che gli sto dando io io gli do l'innovazione e gliela do protetta quindi gli do il vantaggio competitivo e il modo di controllarlo questo soggetto dall'altra parte che io comprendo stimo eccetera eccetera ma è un mio antagonista cioè stiamo negoziando quindi lui io gli do una cosa lui me ne deve dare un'altra e quanto diciamo più forte è la mia posizione dal punto di vista negoziale tanto maggiore è la probabilità che io porti a casa qualcosa in termini di vantaggio economico non solo economico comunque che la negoziazione sia equilibrata ora nella letteratura che si occupa di negoziazione è una roba a cavallo tra il diritto le scienze sociali la psicologia si sa che il risultato della negoziazione è funzione del potere negoziale e il potere negoziale ha un'unità di misura che si chiama BATNA che sta per Best Alternative to negotiated agreement il potere negoziale è funzione di quale alternativa la mia controparte ha se non stipula il contratto con me ok che cosa significa questo è chiaro che se io sto nel deserto e vendo bicchieri d'acqua a uno che passa da quelle parti il prezzo che posso chiedere per un bicchiere d'acqua tende all'infinito l'elasticità rispetto al prezzo è altissima perché quel signore ha bisogno dell'acqua ma quando siamo in un contesto di trasferimento tecnologico la BATNA è funzione è legata molto moltissimo a due cose uno la bontà dell'innovazione come tale quindi la bontà della il significato del del vantaggio competitivo che io sto promettendo a questo signore che viene da me e dice oh che bello hai questa molecola hai questo dispositivo ma è anche funzione della della misura con la quale questo signore sarà in grado di conservare il vantaggio competitivo queste due cose se le prende sempre da me non è che la tecnologia la prende da uno il brevetto lo prende dall'altro se si verifica questa situazione cioè se si verifica che la tecnologia che è il sottostante e il coperchio che è la proprietà intellettuale appartengono a due soggetti diversi vuol dire banalissimamente che la tecnologia l'ho sviluppata io ma i brevetti c'era qualcun altro vuol dire che su questa tecnologia non c'è freedom to operate la mia tecnologia è contraffattiva quindi in astratto è una grande fonte di vantaggio competitivo peccato che appena vado sul mercato quell'altro signore dice che ha i brevetti e mi interdice no? allora nella misura in cui c'è un perfetto allineamento tra tecnologia e proprietà intellettuale perché questo ce l'ha queste due cose me le dà il titolare il titolare mi sta dando quello che io voglio cioè un vantaggio competitivo sostenibile perché mi resta nel tempo ora l'altra il potere negoziale diciamo non è solo legato al fatto che che queste due entità no? la protezione e la tecnologia appartengono allo stesso soggetto ma dipende anche dal rapporto relativo tra queste due entità perché se per ipotesi la tecnologia è molto ampia ma il brevetto è striminzito vuol dire che la qualità della protezione è bassa vuol dire che c'è una parte della mia tecnologia che è fuori dalla protezione quindi io sto ancora dando il vantaggio competitivo ma non gli sto dicendo come si trattiene questo vantaggio competitivo se io non gli sto dando un brevetto corrispondente questo è un tema di qualità cioè un tema di allineamento tra l'innovazione e la forma di protezione che io ho prescelto tenuto conto che la tecnologia può essere protetta da tanti diverse forme di proprietà intellettuale ci possono essere dei brevetti dei segreti eccetera ma tutto insieme mi deve dire che almeno la proprietà intellettuale i diritti di proprietà intellettuale che io gli sto dando corrispondono alla tecnologia più bassa è la qualità maggiore è la probabilità che qualcuno mi sorpassi a destra quindi vuol dire che si riduce il potere negoziale allora cattiva protezione significa minore potere negoziale perché quel signore non è interessato solo al vantaggio competitivo è interessato a tenerselo non gli interessa di dire sì per un istante sono stato il più bravo però due minuti dopo erano tutti bravi come me assolutamente quello che sto capendo io allora mi devo far dare una mano per evitare che avvenga quel modello lì nel senso io ho una potenza di fuoco limitata a un IRX italiano ho una molecola che funziona per risolvere un problema in una malattia rara che però è una malattia che può essere sviluppata da più persone che non hanno una malattia rara con l'età o l'ipertensione ho bisogno di testare tutte le molecole simili a quella e di testare tutte queste in un modello di malattia più ampio mi devo far dare una mano io non riesco a testare 18 compound su un modello di malattia rara perché il mio capo mi dice ciao non mi dai soldi e potrei coprire con un brevetto più ampio tutti quei compound ma solo se mi dessero una mano quindi quello che sto capendo è forse è meglio coinvolgerli subito prima del brevetto e farmi dare una mano non è così semplice non è così semplice no no non è così semplice vedete se io ho inventato uno scarpone da neve ok e mi pongo il problema di proteggerlo ci faccio un brevetto oppure registro un modello io posso fare un brevetto dove identifico esattamente questo questo non è una tecnologia questo è un prodotto identifico il prodotto e le sue possibili variazioni 4 leve micrometriche 5 leve micrometriche 6 leve micrometriche però è quello è quello come si usa te lo infili lo chiudi lo agganci buongiorno lo agganci allo sci ti butti giù per la cosa no noi non stiamo parlando di scarponi da neve noi stiamo parlando di tecnologia e quando parliamo di tecnologia il rapporto che c'è tra il sottostante che è la tecnologia appunto e la forma di protezione è un rapporto mutevole perché io a un certo punto devo fare siccome devo gestire il rischio di protezione non lo posso tenere più segreto devo scrivere devo fare una fotografia un'istantanea di un soggetto che si muove quindi oggi faccio l'istantanea ma la tecnologia non è mai uguale a se stessa perché portarla sul mercato presuppone fare aumentare il TRL ma la giusto la devo testare testandola capisco che ha dei casi di uso diversi eccetera 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 questo oggetto qua sotto ha una tendenza come dire espansiva perché l'attività di ricerca e sviluppo mi fa aumentare delle conoscenze così come evidentemente c'è anche una come dire dal punto di vista tecnologico una tendenza riduttiva nel senso che io potrei escludere alcune cose che a livello teorico avevo immaginato ma che in pratica non funzionano la proof of concept tipicamente serve a questo ora quando io faccio l'istantanea devo essere preoccupato almeno che ci sia che il soggetto che ci sia un fotogramma in cui è fermo e l'ho preso ma nella prospettiva dell'aumento della tecnologia la scrittura in questo caso del brevetto presuppone che io mi faccia aiutare mi faccia aiutare da qualcuno che mi sappia dire dal punto di vista tecnico e brevettuale come evolve come può evolvere il brevetto tenuto conto della fotografia iniziale che scatto io devo scrivere delle rivendicazioni di quello che non ho immaginato che invece dal punto di vista brevettuale si può scrivere per non creare quelle famose scoperture e tenuto conto questo lo vedrete magari oggi pomeriggio della prior art perché io scatto un'istantanea all'interno di uno scenario brevettuale dove ci sono anche gli altri quindi potrebbe essere che scrivo quella rivendicazione e poi mi arriva il rapporto di ricerca e mi dice guarda c'è questo documento anteriore di closest prior art per cui questa rivendicazione non è buona e quindi mi si crea una scopertura allora il grande segreto per mantenere Batna è cercare di avere il più possibile un allineamento tra queste due cose tenuto conto delle due difficoltà uno la tecnologia evolve e non è detto che evolva soltanto con la mia capacità devo avere bisogno di qualcun altro due il brevetto non evolve in tutte le direzioni perché io posso scrivere delle rivendicazioni ampie all'inizio però la norma mi dice le rivendicazioni devono essere supportate dal testo quindi io non posso scrivere più cose di quelle che ho inventato se no faccio un brevetto delle rivendicazioni invalide e nel corso della procedura io mi devo aspettare che se va bene ma deve andare molto bene le rivendicazioni mi verranno concesse come le loro scritte ma è possibile che mi si chiedano delle limitazioni certo ho un algoritmo di intelligenza artificiale utilizzando tre variabili la variabile A, B e C e la brevetto dopo due anni tre anni utilizzando 100-200 pazienti capisco che in realtà potrebbe essere utile utilizzare anche un'altra azienda capisce che in realtà potrebbe essere utile implementare questo algoritmo con altre tre variabili in quel caso loro comunque non hanno la libertà di utilizzo dipende no? dipende la risposta la risposta sempre corretta all'esame di diritto è dipende dipende perché perché se il procedimento che loro attuano è un procedimento che ripete almeno tutti i passaggi del brevetto precedente anche se ne aggiungono altri c'è interferenza quindi hanno un brevetto ma non hanno freddo in tua operetta i passaggi proprio tecnici cioè magari se usano le stesse variabili ma con un altro algoritmo dipende da come è scritto il brevetto questo sto dicendo no? perché potrei essermi dimenticato dei pezzi potrei non aver generalizzato potrei aver detto tre variabili e quello dice ma io ne uso due e la quarta è diversa dipende dipende da ecco perché quello che sto dicendo è la qualità della protezione è una cosa importantissima perché ne va dell'attrattività verso l'azienda ma la qualità della protezione non è una non è un bene che si ottiene istantaneamente perché una volta ho fatto depositato la domanda di brevetto arrivederci e grazie no? perché c'è un tema di allineamento c'è il tema che quando dopo 12 scusate dopo 18 mesi arriva la pubblicazione in A1 della domanda di brevetto con l'International Search Report ci stanno X Y vuol dire che io devo iniziare a stagliuzzare e la la cosa la protezione diminuisce sono sicuro che nella versione finale del brevetto quello che mi verrà concesso sto ancora almeno dentro la versione originaria della tecnologia perché sennò ho creato una scopertura e quello che viene a comprarsi la tecnologia per non parlare dell'investitore che mi deve finanziare lo spin off fa due diligence ci avrà un esperto che gli dice sì guarda tecnologia bellissima ma tenete conto di un'altra difficoltà questa cosa noi la vediamo su quante dimensioni questo rapporto tra tecnologia e protezione lo vediamo su due dimensioni il tempo perché evolve sia l'uno che l'altro e lo vediamo dal punto di vista delle rivendicazioni dello specchio della cosa ma c'è la terza dimensione lo spazio il mercato perché se io ho la migliore tecnologia il brevetto ce l'ho solo in Italia l'azienda mi dice guarda tecnologia meravigliosa ma io ho il mercato in tutto il mondo questo è un caso che è successo veramente anni fa non mi ricordo quale università ma se anche lo ricordassi non lo direi diceva abbiamo fatto questa ricerca era un composto per la per la cura della del tumore alla prostata ok il tumore alla prostata è la seconda causa di mortalità della popolazione maschile sopra i 50 anni quindi mercato per tornare al discorso pieno enorme qualunque azienda vi dice bellissimo ricerca fantastica gruppo fantastico h-index meraviglioso pubblicazione pubblicazione meravigliosa brevetto c'è tutto andiamo dalle aziende le aziende bello bellissimo no grazie bello bellissimo no grazie bello bellissimo no grazie ma perché che cosa c'è che c'è sfuggito no la storia sembra allora sulla terza dimensione che è quella spaziale quell'ente aveva iniziato la procedura di brevettazione e poi non avendo tante risorse e dovendo scegliere perché c'è anche quel problema no il rischio di un aspetto rischio di protezione è che per proteggermi devo spendere e non è che ho risorse infinite allora avevano fatto il brevetto italiano poi erano passati nel PCT non avendo soldi in Europa avevano fatto solo la Germania e nel mondo avevano fatto India e Cina ma dice scusa ma perché avete fatto questa estensione dice ma perché il mandatario adesso non so se è vero però avevano buttato la croce sul mandatario il mandatario ci ha detto che questi sono mercati grandi vero vero peccato che se uno va a vedere le statistiche della mortalità per il tumore alla prostica gli asiatici non muoiono di tumore alla prostica perché non mangiano carne di maiale e non fanno il barbecue la domenica con le salsicce e le braccio muoiono in Nord America la metà muore in Europa e la metà della metà quindi questi due mercati sono insignificanti dal punto di vista allora sì la tecnologia è buona ma la copertura è striminzita sulla dimensione spaziale operazione di trasferimento tecnologico uccisa che faccio che faccio inizio la fase preclinica clinica eccetera arrivo sul mercato e poi c'è il genericista che dice grazie dammi il dossier che adesso lo produco io questo farmaco non funziona così allora questo è un un signor tema no perché l'azienda che dice meravigliosa questa innovazione ma tutti quanti hanno un'alternativa migliore della mia e qual è l'alternativa migliore della mia che copiano allora copio anch'io aspetto il primo però se tutti aspettano tutti l'innovazione non arriva sul mercato allora ni 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 perché guardate che fare un deposito italiano poi fare un PCT entrare in fase europea poi nelle fasi nazionali comunque questo affare qua è costato tanti soldi non è che hanno speso poco no il brevetto in India in Cina non è che te lo regalano qual è il tema mi devo far aiutare ma quando dicevo attenzione mi serve il ricercatore perché il ricercatore lo sa che il tumore alla prostata non è una causa di mortalità maschile in India in Cina quindi glielo avete chiesto al ricercatore dove andare a proteggere evidentemente no non è che ci dobbiamo aiutare tutti quanti perché io so come funziona la procedura brevettuale e so che se mi scade il termine per il PCT all'estero non ci posso andare se mi scadono i termini per le nazionalizzazioni io non ce lo posso aggiungere gli Stati Uniti ma qualcun altro mi deve dire amico guarda che questo come si qualcuno le sa queste cose ma io non lo so perché io lavoro nel TTO oggi viene quello col tumore alla postata domani c'è quello col bisturi poi viene quello con gli algoritmi di intelligenza artificiale il gruppo ha buttato la croce sul mandatario brevettuale hanno detto così però i costi di mantenimento di un brevetto in Indie e in Cina è paragonabile a quello degli US ma sì ma guardate non bisogna mai ragionare guardate non bisogna mai questo è un tema strategico no? non bisogna mai ragionare in termini di costi assoluti nella 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 determinazione nell'algoritmo di costo questa diciamo la mela sta rotolando un po' lontano dall'albero però mi ci state portando voi quindi assumo che risponda ad un interesse il primo costo che io valuto nel decidere se proteggere come proteggere non è il quanto costa il brevetto il primo costo che io valuto è quello che in economia si chiama il costo opportunità il costo opportunità dice che cosa succede se io non brevetto o se mi dimentico gli Stati Uniti quando gli Stati Uniti sono il primo mercato però qua si parlava di farsi aiutare chiedere ma forse per tutte queste problematiche non è l'azienda la persona con la quale interfacciarmi cioè se da una parte è troppo tardi se da una parte è il mercato e quindi ho bisogno di chi mi fa un'analisi di mercato un'altra parte è il sapere la patologia dove cioè forse l'aiuto non devo andarlo iniziare a chiedere all'azienda quando poi è anche difficile contrattualizzare con l'università ma cercarlo anche prima e vicino forse vicino lontano ma prima l'importante è prima noi abbiamo tante fonti informative esistono le banche dati basta una cosa voi oggi pomeriggio farete con il dottor Falciola la parte di ricerca pre-vettuale ah e lei buongiorno scusi non ci conosciamo molto lieto una cosa molto semplice vado su una qualsiasi banca dati no Patenscope Espasnet vado a vedere dove il primo della classe estende i brevetti che voglio fare anch'io quello è un benchmark oh ma se li fanno tutti in Germania e in Austria e io li voglio fare in Sudafrica e in Nuova Zilanda ma ci sarà una ragione no? non è che non abbiamo strumenti ma li dobbiamo dobbiamo aumentare la base di conoscenza per poter prendere le decisioni la prima dicevo il primo tema è un tema di costo opportunità cioè che cosa succede se non qual è il costo di non che va declinato nel che cosa succede se mi sono dimenticato la rivendicazione più importante oppure non me la concedono che cosa succede se nel tempo questa domanda è troppo ampia la devo stringere purtroppo la procedura brevettuale non mi consente l'inverso io non la posso allargare posso solo restringerla e che cosa succede se mi sono dimenticato un paese importante quindi questa è la prima considerazione che io faccio dove l'alternativa alla brevettazione è il segreto se si può la pubblicazione se si può altri diritti di proprietà intellettuali la seconda considerazione che io faccio è il costo dell'enforcement se io faccio il brevetto in India e in Cina vuol dire che implicitamente sono pronto ad andare a fare un'azione di contraffazione in India e in Cina io o chi per me ci vanno a fare l'azione di contraffazione in Cina? non faccio il brevetto per moda dove non sono pronto o so che in Cina c'è un licenziatario o c'è un licenziatario da qualche altra parte che sicuramente andrà in Cina o non faccio il brevetto in Cina scusate se non ho tanti soldi perché se sono una casa farmaceutica ho tanti soldi vado ovunque ma se sono un ente e devo fare economia perché non ho solo questo brevetto ne ho tanti e la famiglia brevettuale è grande per cui ci hanno tanti figli in Italia devo selezionare seleziono in funzione di quanto è verosimile che quel brevetto che non non solo che io faccia l'azione di contraffazione che io mi renda conto che c'è un contraffattore là perché è un tema di detection e per fare detection devo fare vigilanza la faccio vigilanza su quel mercato lo scopro tutto in termini probabilistici perché qua parliamo in termini di rischio quanto è probabile che eccetera eccetera e solo se il costo opportunità della non protezione è troppo alto e i costi di enforcement sono proibitivi ma accettabili allora io vado a valutare i costi diretti di protezione brevetto italiano 2005 PCT 3089 più questo più la nazionalizzazione eccetera questo è l'algoritmo perché se io parto da qua il brevettare costa 30.000 io ce n'ho 29 non lo faccio il brevetto ma non è vero che ti costa 29 perché lo devi vedere in funzione di dove non lo vorresti e di dove invece dovresti avercelo per forza a quel punto io l'aiuto che chiederei veramente era solamente economico perché metto in conto il fatto che la patologia la so io il mandatario brevettuale mi abbia ieri realmente aiutato a scrivere un ottimo brevetto quindi io veramente sono con le pezze lì e sto chiedendo soldi per darmi una mano a fare una cosa fatta per bene in termini di copertura effettiva assolutamente però diciamo le dimensioni sulle quali ci muoviamo sono tre quella geografica quella temporale e quella diciamo tecnica delle rivendicazioni il mandatario mi aiuta su quella tecnica lo devo aiutare io su quello temporale perché se arriva l'azione ufficiale dell'epoca e dice ho trovato delle anteriorità avete due mesi per rispondere poi chiedo la proroga faccio passare tanto tempo il tempo non corre mai a nostro vantaggio perché più ci spostiamo qua questa curva più aumentano e poi non sa mai quello che succede fuori dal mercato magari un concorrente arriva prima quindi lo devo aiutare io sul mercato geografico un po' mi può aiutare se io gli dico guarda facciamo un benchmark aiutami a capire chi sta facendo che cosa però poi i cordoni della borsa io ragiono avendo assunto delle informazioni da parte dei ricercatori e poi se non posso andare a chiedere ad un'azienda magari ci posso andare perché non sto ancora fuori tempo massimo sto parlando con l'azienda magari abbiamo fatto un contratto di opzione ci siamo iniziati a parlare e dico all'azienda guarda che sta scadendo il termine per dove vorresti che io vada dimmi non è detto che io ci vada perché se mi dici 50 stati no ma ti dico dimmi i primi 3 4 e io poi in funzione del budget che ho scelgo quantomeno non mi perdo i mercati importanti cioè io ho fatto Italia, Germania, India e Cina bastava fare Europa e Stati Uniti avevo preso probabilmente quanto? l'80-90% del mercato avevo speso più tanto non credo no? non credo ma intanto avrei avuto la possibilità di ingaggiare un potenziale licenziatario gli avrei detto mi paghi un'opzione che io intanto mantengo la cosa cioè bisogna bisogna ragionare nell'ottica dinamica non a stadi no? le cose diciamo le situazioni si influenzano e coagiscono ora c'è un tema c'è un tema per venire alla domanda il tema è la mia tecnologia che non è lo scarpone è una tecnologia che ha tanti casi d'uso è una piattaforma ok? che è la cosa più complicata è un materiale che va nel medicale nel meccano è una resina meravigliosa alcuni casi d'uso io li capisco li intuisco li vedo altri non ho idea nemmeno di il problema che ho è che quando mi renderò conto che c'è un caso d'uso ulteriore probabilmente sarà troppo tardi perché la domanda la paro già scritta quindi che cosa posso fare in questa tattica però non c'è niente di strategico devo cercare di scrivere le rivendicazioni in maniera tale da includere prevedere la maggior parte dei casi d'uso anche con quelle rivendicazioni omnibus è tutto un intervallo tra 0 e 5 tra 5 e 10 e poi tutti quanti gli intervalli del mondo non so nemmeno se sono valide delle rivendicazioni di questo tipo però intanto io lo faccio sapendo che quando poi il brevetto farà la domanda il brevetto farà la cura dimagrante mi deve rimanere esattamente quell'intervallo che è quello che interessa a me quello rispondente alla mia effettiva tecnologia ed è la ragione per la quale noi scriviamo dei brevetti quante volte capita che l'inventore dice ma tutte queste cose non lo capisco eccetera ma è necessario è necessario perché la procedura brevettuale è in buto si stringe non si allarga e quindi se io mi dimentico una cosa adesso dopo non la posso aggiungere sono vincolato da quello che c'è nella descrizione e dalla configurazione originaria delle rivendicazioni sì certo posso interpretare ma se c'è un caso d'uso nuovo che non avevo previsto non lo posso aggiungere non ce la faccio che cosa posso fare deposito una seconda domanda di brevetto potrebbe essere però intanto c'è un problema economico due non è detto che la seconda domanda di brevetto che io deposito sia un'invenzione a tutti gli effetti che abbia i requisiti di novità e altezza inventiva perché magari è nuova c'è un caso d'uso che non avevo previsto ma l'esaminatore mi dice guarda che il tuo la tua precedente domanda di brevetto fa prior art perché non c'è una discontinuità significativa no? è ovvio includere quindi io faccio una seconda domanda di brevetto no? allora devo devo gestire questa fase delicata con delle limitate informazioni perché se avessi tutte le informazioni sarebbe la domanda perfetta eccetera avendo fatto prior art è inutile che faccio la ricerca a occhi chiusi perché le cose più evidenti mi devono saltare fuori subito non posso scoprire dal rapporto di ricerca 9-12 mesi dopo che c'era un'anteriorità grande come una casa del brevetto no? quando nel frattempo ho investito soldi eccetera quindi devo fare prior art per capire quello che c'è intorno devo fare questo esercizio di raccolta delle informazioni da più fonti quella commerciale quella tecnica eccetera e poi devo fare un lavoro di redazione della domanda di brevetto che sia sufficientemente ampia da coprire la versione attuale della tecnologia e quella auspicabile intuibile non probabile a seconda dello sviluppo faccio sempre in tempo a togliere ma non posso aggiungere questo è purtroppo il vincolo della procedura brevettuale perché non posso aggiungere materia inventiva ad una domanda o faccio un'altra domanda con i rischi che abbiamo detto oppure sono diciamo sono spacciato però però questo esercizio di diciamo di continuo allineamento tra la tecnologia tra le generazioni della tecnologia tra i casi di uso della tecnologia tra le declinazioni della tecnologia e la forma di protezione mi serve esattamente a questo perché quando io mi approccerò alla controparte gli dirò ti piace questa tecnologia vedi che bella fonte di vantaggio competitivo che ti do sì ti assicuro che è solo tua perché il brevetto è forte e guardate che se il brevetto è già concesso la posizione negoziale è più forte perché la controparte non ti dice ma non c'è solo una domanda c'è un rapporto no il brevetto è concesso è concesso in tutti gli stati che ti interessano non ci sono state opposizioni dove le potevano fare non ci sono state obiezioni sulla quale è un brevetto forte è presuntivamente valido certo qualcuno lo può sempre attaccare ma intanto è questo è chiaro che se io vado indietro e non è un brevetto concesso ma è un brevetto concesso e opposto se è un brevetto se è una domanda se è una domanda segreta se è una domanda segreta senza il rapporto di ricerca se è segreto segreto quello mi dice aspetta perché adesso il rischio è veramente alto arriviamo in quella zona nella quale forse non facciamo l'accordo perché io non so se questo segreto è scappato se i ricercatori hanno pubblicato nel frattempo e quindi prima cosa cerchiamo di proteggere il prima possibile due cerchiamo di proteggere bene dove però attenzione il prima possibile ho detto una cosa esagerata il prima possibile compatibilmente con le cose con le informazioni che ci servono perché molte volte si fanno dei brevetti fatti male poi che cosa faccio ritiro la domanda di brevetto ne faccio un'altra però nel frattempo la prior art è evoluta quindi fare una domanda fatta bene significa anche avere tutte quelle informazioni per essere in grado di tagliare quel famoso abito sartoriale preciso che non crea sconvenienze e che mi deve dare questo voi la dovete pensare sempre in quest'ottica ecco perché la fase di protezione è già una fase di valorizzazione perché io sto gestendo un rischio che è fortemente impattante sulla verosimiglianza dell'operazione di trasferimento tecnologico come tutti gli altri ma più degli altri perché tanto se non funziona non funziona e non vado avanti rischio tecnologico se si vende lo saprò quando siamo sul mercato ma se funziona e si vende e si vende in volumi grandi ma me lo copiano perché il brevetto è fatto male non ci vado sul mercato e se lo devo prendere in licenza non lo prendo in licenza allora questo questo rischio evolve e con l'evoluzione di questo rischio chiaramente evolve la natura dell'operazione e il contenuto dell'accordo perché quando il rischio è troppo alto soprattutto se è alto in relazione agli altri l'operazione non si fa rischio di fuoriuscita di know-how mercato incerto tecnologia ancora poco matura no grazie ma se le altre condizioni sono accettabili e qua devo iniziare a capire se è segreto come lo gestisco il rischio di protezione quando la conoscenza è ancora segreta ed è prematuro fare la domanda di brevetto faccio una domanda prematura o faccio qualche altra cosa accordo di riservatezza no? accordo di riservatezza serve a questo io vincolo la parte alla quale sto parlando dicendo firmami un pezzo di carta col quale ti impegni a non utilizzare a non trasferire a non ridire le cose che io ti sto per dire serve l'accordo di riservatezza questo è uno degli accordi per i quali ogni tanto si sente dire ma che accordo di riservatezza noi non li facciamo che sciocchezze non servono a nulla ecco e mi ricorda qualche anno fa c'era un mio amico che non era mai uscito dal paese e è andato in America per la prima volta diceva sono andato in America e prima di scendere ci hanno dato una striscetta verde il modello L1 con tutta una serie di domande che stupidi gli americani mi dice porti armi hai mai ucciso qualcuno c'hai della droga ma che volete e no 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 che stupidi proprio io ho ridato così sono stupidi loro su quel foglietto c'è scritto federal transportation authority se tu dici una bugia su quel pezzo di carta fai un reato federale che vuol dire che l'FBI può venire a restarti in qualsiasi momento anche se sei un cittadino allora l'accordo di riservatezza è possibile che la controparte siccome sono dei disgraziati lo firma e poi si appropria del segreto ma c'è un documento con una data con un impegno con una scadenza e quindi e non c'è un altro modo per gestire il rischio di protezione quando l'informazione è segreta o faccio il brevetto o mi faccio qualcuno dice ti devi fidare no tanti anni fa il capo della proprietà intellettuale di Pirelli che era un osso durissimo diceva noi non firmiamo accordi di riservatezza perché siamo delle persone per bene ho detto invece mia madre faceva un mestiere poco onoroso e io le devo chiedere di firmare l'accordo di riservatezza ma che discorso è siamo persone per bene non è un discorso soprattutto il gestore di proprietà intellettuale nell'ente pubblico non può accettare un argomento siamo persone per bene io tutelo un asset che è stato pagato con le risorse del contribuente quindi tu l'accordo di riservatezza me lo firmi lo dobbiamo fare bene perché io leggo delle robe che mi fanno venire di nuovo le urticazioni e lo dobbiamo fare bene e lo dobbiamo conservare perché là c'è un nome c'è una data c'è un contesto per quale l'abbiamo scambiato e in base a questa diciamo condizione di relativa tranquillità che io mi sono ricreato temporalmente attraverso l'accordo di riservatezza posso andare da quella da quell'azienda dicendo cara azienda sto per scrivere una domanda di brevetto ti viene in mente qualche cosa che ci devo inserire allora tecnicamente ho ricreato le condizioni per poterlo fare l'azienda si mangia la foglia e che cosa dice dice io te lo dico però dopo il brevetto è anche un po' mio no? perché tu non ci avevi pensato vedi questa cosa eccetera allora di qua come se ne esce in due modi in tre o accetto l'idea che viene in cotitolarità ha dato un contributo piccolo però la faccio entrare in cotitolarità di nuovo regolandola perché se no si creano quei disegnamenti due aspetta vado a fare la domanda di brevetto dopo ne parliamo però la domanda di brevetto ci metto tutto l'universo dopo tu mi dici se ci ho beccato o no la terza cosa è dimmi quello che vuoi io ti concedo un'opzione cioè tu mi dici io scrivo la domanda di brevetto se poi ti interessa io ti do un'opzione per prenderti una licenza per sperimentare per fare una proof of concept quindi non non prendo i tuoi input per poi andarli a regalare ai tuoi concorrenti torno da te e è la prima porta alla quale busso la tua no in cambio di di qualche cosa non è detto che ci siano no perché tutti quanti tendono a esagerare questo si chiama effetto dote no endowment effect tutti quanti tendono a esagerare quello che hanno a diminuire quindi quello è venuto ha già fatto il brevetto io gli ho detto metti una virgola vedi con titolarità al 50% ma mi hai dato una virgola ma non è una virgola importante è la mia virgola ma questo è il mio brevetto e non si va a nessuna parte ma ma questo oltre che un accordo di riservatezza sta quasi implicando già una arrendi agreement potrebbe potrebbe c'è già la faccia di un arrendi agreement potrebbe essere un accordo di riservatezza con un'opzione per licenza oppure potrebbe essere due accordi paralleli potrebbe essere un accordo complessivo quello che voglio dire è ci sono delle risposte che noi possiamo dare l'obiettivo è sempre questo cioè l'obiettivo è non indebolirsi nel momento genetico del brevetto perché sennò quel signore siccome poi quando io metto il coperchio il sopra e il sotto sono uniti se lui è cotitolare del brevetto è cotitolare della tecnologia e quindi non me la pagherà dirà ma perché ti devo pagare una cosa che già per un pezzo è mia no? mentre sarebbe più forte la posizione se uno dicesse è tutto mio e dobbiamo ragionare su un piano diverso magari un piano contrattuale non proprietario no? non sto dicendo che questo sia facile non sto dicendo che sia facile sto dicendo che esistono degli strumenti per gestire queste dinamiche e le aziende ci proveranno fino in fondo a dire che questo succede guardate non succede questo credo che sia importante purtroppo non succede sempre in contesti strutturati cioè ti ho chiamato un giorno ho detto puoi venire da me sei venuto sei entrato ci siamo seduti a un tavolo ho detto sto firmando l'accordo sto facendo questo tu mi dai questa informazione molte volte queste informazioni che sono strumentali appunto alla costruzione del portafoglio di proprietà intellettuali o addirittura alla costruzione del sottostante dell'innovazione sono informazioni che ci scambiamo in contesti che nessuno si immagina a me è capitato anni fa in caso interessantissimo ma drammatico era ancora non mi ricordo se era sesto o settimo programma quadro quindi programma finanziato dell'Unione Europea cordata di sette università in tutta Europa e una start up di un paese di un paese non dell'Unione Europea ma di quelli ammessi il progetto era che bisognava sviluppare questo erano i deliverables due prototipi di un dispositivo medicale non mi ricordo se era un arto una anca non mi ricordo comunque due prototipi fatti in un certo modo e portare questa cosa a un TRL6 una cosa del genere allora alla fine che cosa succede? Devono scrivere questo prevede il progetto europeo devono scrivere l'exploitation plan bisogna scrivere l'Unione Europea dicevo ho dato i soldi che cosa ne succederà di questi due prototipi scrivono l'exploitation plan e l'azienda l'unico privato là dentro dice no questo exploitation plan non va bene perché dice che noi faremo ma io ho un brevetto su questa tecnologia come un brevetto e quando l'hai fatto? eh sì sì l'ho fatto ve l'ho anche detto ce l'hai detto e succede il finimondo io non credo che quel progetto sia andato a remo addirittura perché a un certo punto non riuscivano a consegnare l'exploitation plan il policy officer dice ma che cosa è successo e gli hanno raccontato la storia era successo questo e guardate come diciamo come vi sto motivando il fatto che certi scambi non avvengono in contesti in contesti regolati cioè loro che cosa avevano fatto? Avevano svolto questa attività di ricerca ed erano alla fine del percorso dove dovevano fare l'exploitation plan avevano fatto un'attività di ricerca e sviluppo quindi attività prevista dal progetto l'attività prevista dal progetto era partita in un momento in cui loro avevano scritto il funding agreement firmato il funding agreement allegato al funding agreement c'era il consortium agreement accordo di consorzio dove c'era anche l'accordo sulla proprietà intellettuale per fare questa cosa avevano negoziato con la commissione a partire dal momento in cui c'era stata la comunicazione del vincitore vi siete aggiudicati questa cosa come ci si era arrivati qua perché qua avevano depositato la proposta avevano fatto la submission della proposta e come si era arrivati alla proposta perché avevano scritto il progetto e avevano scritto il progetto perché a un certo punto si erano incontrati facendo tutta una serie di meeting informali poi a un certo momento hanno detto ok go c'è una call andiamo scriviamo il progetto sotto posizione valutazione negoziazione esecuzione e qua finisce il progetto e qua si litiga che? no ah certo la commissione europea ti dice carissimo tu hai vinto adesso per l'erogazione dei soldi dobbiamo fare un accordo che è il funding agreement quella roba illegibile bestiale con tutte le cose quindi il vincitore negozia con la commissione qua c'è una fase di negoziato sto negoziando con un finanziatore della ricerca uno che mi dà i soldi firmiamo e partiamo con le attività questo è il punto non solo no la cosa è ancora più grave perché perché loro hanno detto andiamo quando è uscita la call che nel frattempo si erano già incontrati hanno detto ma sai tu sai fare questo allora potremmo mettere sì a lei facciamo due prototipi li fai uno tu da una parte uno dall'altra poi vediamo la mentalità del ricercatore che è preoccupato del ricercatore e non dell'exploitation torniamo al discorso di questa mattina partecipa ai meeting informali l'azienda la quale sta là e prende appunti in maniera molto silenziosa e discreta che cosa fa sapete dove ha brevettato loro quando l'azienda alla fine gli ha detto ma io ho brevettato ma io ve l'ho anche detto perché nel consortium agreement voi lo sapete che c'è un allegato dove io devo dire qual è il background no devo dire qual è la proprietà intellettuale e ho la possibilità di escludere che un mio background finisca nel progetto oppure nelle fasi successive quelle diciamo di exploitation cioè io posso dire ho un brevetto lo metto a disposizione del consorzio per fare l'attività di ricerca ma in fase di commerciale è a disposizione solo se ci mettiamo d'accordo economicamente e quello ha detto così io nel consortium se vi ricordate avevo detto che avevo una domanda di brevetto che avevo depositato quando qua qua ma che cosa è successo era segreta nel momento in cui io l'ho dichiarata ho detto ho una domanda di brevetto che mi dovrebbe da dire una parolaccia aveva lo stesso titolo del progetto arto migliorato quindi ma chi è che se li legge i consortium agreement gli avvocati questa è una roba per avvocati l'avvocato legge arto dice no questa è una roba per i tecnici e quindi di fatto nessuno si era reso conto che l'azienda aveva una domanda di brevetto che era stata redatta esattamente sulla base degli appunti presi durante le rimeone ma nessuno aveva tenuto traccia nessuno si era preoccupato di dire signori nel momento in cui noi iniziamo a parlare siamo in un ambiente già di scambio di informazioni qua c'è già un rischio di protezione perché se uno di noi dice una cosa che non preesiste stiamo aggiungendo del nuovo o quello ha fatto la domanda di brevetto era segreta mi ha detto io ve l'ho allegato ho detto che ho questo nessuno mi ha detto nulla ho scritto nell'accordo che la domanda di brevetto era a disposizione per l'attività di ricerca ma a livello di exploitation l'exploitation passava attraverso quindi per favore adesso mi date quei due prototipi perché i due prototipi che avete fatto sono contraffattivi della mia domanda di brevetto apriti cielo apriti cielo lo scambio questo rischio di protezione era qua ma la ricerca è destrutturata ci vediamo abbiamo fatto un meeting lui ha parlato lui mi ha detto eccetera non si sono resi conto che in realtà non stavano parlando di un prototipo che avrebbe dovuto prototipare stavano inventando una cosa e non se ne sono accorti in questo genere di scambi non si possono fare prima degli accordi di confidenzialità si devono fare si devono fare gli accordi di confidenzialità perché noi stiamo qua noi stiamo abbiamo non tutte le volte in cui sto dicendo delle cose tanto non scusate l'accordo di riservatezza ormai è una commodity ce l'hanno tutti no? però come sarebbe cambiata la cosa se avessero firmato qua avessero scoperto anche dopo che questo signore se l'ha fatto un brevetto mi ha detto no tu ti sei appropriato del know how perché se è venuto alle riunioni non hai detto una parola stavi solo là a verbalizzare le parole le abbiamo detto noi come minimo non è tuo poi possiamo discutere se era mio ma non è tuo il brevetto l'hai fatto appropriandoti ma non ce l'avevano questo pezzo di carta non serve a niente ma mi capita anche con dei colleghi avvocati ma sì l'accordo di riservatezza ma dico ma sì ma infatti ecco una volta scoperto che c'è un brevetto su una cosa sviluppata magari tra due partner però solo uno è poi andato avanti a brevettarlo senza dire niente all'altro è possibile poi rivendicare la propria posizione all'interno del brevetto nel senso che so che per i patent americani fanno decadere il brevetto se anche uno solo degli inventori dice no io guarda che ho collaborato a questa cosa e cosa deve esserci a supporto cioè nel senso mail in cui si parla di questa cosa che tipo di documenti cosa uno poi dovrebbe portare allora c'è negli Stati Uniti questa cosa che si chiama l'hack of inventorship no? ma c'è anche da noi l'articolo 118 del codice della proprietà industriale parla di invenzione dell'inventore pretermesso così si chiama ti sei scordato che c'ero anch'io l'inventore pretermesso ha diciamo tre rimedi a suo favore la prima cosa è che rivendica se dice no guarda un pezzo della torta è anche mio per favore considera due se la domanda se il brevetto è ancora a livello di domanda può chiedere il rigetto tre può chiedere la nullità del brevetto concesso no perché allora è una cosa seria il problema è un problema di prova cioè io devo andare da un giudice e dire signor giudice si sono dimenticati di me quindi per favore revoca questo brevetto in violazione dell'articolo 118 primo comma del codice della proprietà industriale e il giudice dice ma io come faccio a sapere che tu allora ti porto le prove il problema è che questi signori non ce l'avevano le prove no? non ce l'avevano avessero registrato un meeting adesso siamo su Teams avessero condiviso un verbale non hanno fatto nulla un verbale sarebbe bastato un libro di sapete questi casi di lack of inventorship danno poi vita del contenzioso secondo me c'è anche del contenzioso latente perché ci sono queste situazioni le chiamano patent paper patent peers no? le coppie brevetto paper c'è un professore qua di Milano che insegna a Bordeaux Francesco Lissoni che aveva scritto una volta un paper è andato a vedere quanti paper scientifici hanno autori plurimi che sono contemporaneamente inventori designati in brevetto e domande di brevetto e si vedevano queste cose strane per cui il paper lo fanno in 5 e il brevetto è a nome di 4 oppure è sempre diciamo il numero degli inventori designati è sempre più piccolo degli autori del paper sì ma c'è un caso c'è un caso negli Stati Uniti all'università di Duke dove un professore con la sua dottoranda cinese avevano fatto un'attività di ricerca avevano fatto un brevetto poi avevano fatto un paper il paper l'avevano fatto a nome di tutte e due era la tesi di dottorato della ragazza ma il brevetto l'aveva fatto lui poi lei era tornata in Cina dove aveva fatto uno spin off lo spin off aveva avuto un finanziamento la ragazza se ne accorta e lui dice scusami com'è che questa invenzione è la mia tesi di dottorato hai fatto la domanda di brevetto non mi hai detto nulla poi abbiamo fatto il paper ci hai voluto il nome sopra sono andati in contenzioso e ovviamente poi lei ha avuto no è stata rinessa in Cosa allora l'evidenza empirica di queste diciamo è un conclusive non voglio dire che ci siano cose però bisogna quando viene il ricercatore nell'ufficio trasferimento tecnologico fa la disclosure dell'invenzione dice gli inventori sono Tizio Caio e Sempronio alleggo il paper Tizio Caio e Sempronio ma questi altri non è che ci stiamo dimenticando qualcuno sì ma molte volte molte volte non è solo il tecnico che come dicevo prima guardate alle volte ci sono più inventori di quelli che effettivamente hanno inventato alle volte ce ne sono meno però se ce ne sono di più e non c'è come dire il contributo inventivo ma se manca il contributo inventivo c'è una sanzione molto grave cioè l'inventore pretermesso può fare muoia sanzione a tutti i fili stage io faccio dichiarare nullo il brevetto per carenza di attività inventiva da parte capite che la conseguenza è seria no? e queste cose si scoprono sempre dopo quando è iniziata l'attività di valorizzazione e via discorrendo per cui i profili soggettivi del brevetto sono sempre problematici in particolare noi in Italia abbiamo questa norma strana per cui l'invenzione è dell'inventore però è dell'università dell'ente pubblico quindi c'è anche questa complessità però viene fuori questo tema perché quando poi il licenziatario l'impresa dice fammi vedere le domande di brevetto chi sono gli inventori fammi vedere che ti hanno ceduto fammi vedere che c'è l'assignment questo succede nelle migliori famiglie anche private diciamo gli enti pubblici non hanno nessuna esclusiva di fare le cose necessariamente bene o male succede ve lo dico per esperienza succede per tutto però c'è anche questo profilo e ovviamente tutti i vizi del titolo di proprietà fanno sì che il rischio di protezione aumenti apparentemente è stato gestito ma se è stato gestito male vuol dire che è ancora là e quindi l'operazione è rischiosa e quindi forse non si fa no? C'è qua ci sono c'è casisti c'è casisti quindi stavo dicendo in quella circostanza in quella circostanza la questione diventa di prova non c'era dubbi nessuno di loro aveva dubbi sul fatto che di questi prototipi avessero parlato tutti loro tranne anche perché quell'azienda era un'azienda in officina meccanica non aveva la capacità di disegnare realizzare però stava là si è preso gli appunti e ha detto adesso ci penso di fare la domanda di brevetto la domanda è ce l'avete un pezzo di carta ma no ognuno aveva i suoi appunti poi sai ci siamo visti questo progetto era durato tre anni sei mesi di negoziazione sei mesi di valutazione aspettiamo la call erano passati cinque anni non ce l'ho più ti ricordi chi c'era ma era quello questo voglio dire lo scambio di informazione non avviene sempre in un contesto strutturato e bisogna ricordarsi di strutturarlo perché ne va della qualità della protezione che è una determinante del successo dell'operazione di trasferimento di economia quindi prima io ho come dire una attenzione all'informazione confidenziale poi ho una attenzione all'informazione che codifico nella domanda di brevetto e poi ho la doppia attenzione uno a far sì che la domanda di brevetto e poi il brevetto siano sempre allineate alla tecnologia che non siano divergenti e poi devo monitorarlo nel mercato però fortunatamente il monitoraggio lo farà il licenziatario solo che se poi il licenziatario si trova un brevetto debole farà fatica a fare l'azione di enforcement e quindi di nuovo c'è questo meccanismo retroattivo per cui il rischio è troppo alto e non lo prende tenete conto noi li abbiamo analizzati uno per uno ma chi deve prendere la decisione li vede tutti insieme quindi fa una valutazione comparativa dell'accettabilità del rischio e qua l'operazione non la fa qua la fa ma vuole tutte le cautele qua la fa meglio ecco perché si dice facciamo proof of concept utilizziamo delle risorse interne per fare proof of concept perché l'effetto immediato della proof of concept dal punto di vista del potere negoziale è una il derisking tecnologico no una maggiore possibilità di far vedere quali sono i rischi di mercato perché questa cosa funziona vedi non è difficile da produrre si possono fare economie e soprattutto posso fare un brevetto meglio o posso farne un secondo sul miglioramento quindi mi porto più avanti più avanti l'operazione è sicuramente possibile è sicuramente possibile a delle condizioni migliorative rispetto a quelle a quelle di un qualsiasi momento di qualsiasi momento precedente ora nel fare l'accordo vedete che poi in realtà ci sono in realtà molti accordi che servono per gestire questi rischi perché c'è un accordo ci può essere un accordo di proof of concept per il rischio tecnologico c'è sicuramente l'accordo di riservatezza per l'informazione confidenziale poi ci può essere un accordo di vendita della tecnologia oppure di licenza della tecnologia c'è un diciamo l'accordo è uno spartiacque tra il momento tra tutte le cose che sono successe prima e le cose che succederanno dopo dove tra le cose che succederanno poco dopo auspicabilmente prima o poi ci sarà l'ingresso sul mercato e l'ingresso sul mercato segna il momento in cui il rischio di mercato è andato giù dobbiamo capire a questo punto visto che si è inverata quell'idea per cui la mia tecnologia ti avrebbe dato vantaggio competitivo e i miei brevetti te lo conservano dobbiamo vedere come gestiamo gli eventuali i profili diciamo di scusate vado? ah perfetto questo è interessante vi voglio far vedere dei dati adesso quando i giuristi parlano dei dati diciamo prendetemi sempre con cosa però questo è uno studio che abbiamo fatto con dei colleghi di Bruxelles e di Maastricht intervistando delle piccole e medie imprese chiedendo quali fossero gli ostacoli era un lavoro che abbiamo fatto per la commissione europea per la DG Research e abbiamo chiesto quali sono gli ostacoli all'out licensing cioè che fatica fate nel portare fuori la tecnologia e vedete quello che è interessante nella maggior parte dei casi c'è una probabilità alta che l'operazione non avvenga perché è basso livello di maturazione la valle della morte il TRL è basso rischio troppo alto l'operazione non si fa poi difficoltà nel trovare il giusto licenziatario questo bisogna dire a quelli che dicono dovete fare le licenze non esclusive oh ma io ne ho trovato uno è quello la valle esclusiva che faccio gli dico di no con la speranza che forse trovo il secondo e il secondo mi dico ah sì sì va bene se il secondo non lo trovo non c'è o non c'è il terzo però in ogni caso lo devo identificare no? ed è difficile trovare o ci sono rapporti pregressi o qua c'è un tema di marketing della tecnologia non banale e poi quanto gli faccio pagare? cioè come qual è il modello di pricing? perché non gli sto dando lo scarpone la sci gli sto dando una tecnologia che andrà sul mercato che starà dentro dei prodotti che stanno dentro degli altri prodotti no? questo è interessante per nessuno di voi fa ricerca nel settore agrario vero? no nel settore delle nuove varietà vegetali è bellissimo perché io ho selezionato una nuova varietà di mela e adesso la devo licenziare a chi la licenzio? al vivaista che le riproduce o al produttore di mela che le dà al vivaista e poi mi faccio pagare qual è la royalty che mi faccio pagare? per pianta o per chilo di mela? cambia no? perché una pianta fa tanti chili di mela e benché la royalty sia molto piccola se misurata al chilo di mela sono tanti tanti chili di mela per tanti tanti anni la pianta è una la metto sul campo sta là per dieci anni 15 anni ma c'è un altro problema la royalty sulla pianta me la paga il moltiplicatore cioè il vivaio che le riproduce quello sulla mela me la paga quel signore Melinda che raccoglie le mele anzi nemmeno lui perché Melinda è un consorzio quindi le mele le raccoglie l'agricoltore che le porta al consorzio che gliele paga ma le vende il consorzio quindi io dovrei fare un accordo che passa 4-5 livelli per andarmi a prendere e questo è un tema però è questo tema qual è il modello di remunerazione di una tecnologia e le difficoltà nello stabilirlo creano questi problemi questo è invece ancora più interessante cioè quali sono le barriere e gli ostacoli all'acquisizione della tecnologia e le aziende e le aziende dicono 62,3% non ho certezza sulla freedom to operate o meglio scusate ho letto male i dati però ho detto subito che ero giusto nel 62,3% dei casi si ritiene che la responsabilità della mancata conclusione dell'accordo sia un tema di freedom perché quella è la prima cosa alla quale guarda il licenziatario che significa qualità della protezione significa qualità della protezione e significa anche posizione di questa innovazione nello scenario tecnologico perché io potrei aver fatto il brevetto di nuovo ma è un brevetto dipendente è nuovo ha tutte le caratteristiche peccato che nel rifare quel procedimento passo sopra l'aiuola di qualcun altro quindi tantissimo questo la dice lunga sulla qualità della protezione due tipo di pagamento o schemi quanto quello mi dice che vuole 100 subito e non vuole le royalties quell'altro dice dammi 50 ma il 7% è i royalties no il 7 è troppo e su queste cose chiaramente si negozi e poi c'è no questo scusate non abbiamo tantissimo tempo vi volevo far vedere di questo abbiamo parlato queste sono le dimensioni dell'esclusiva poi vi ho lasciato le slides non so quanto siano intellegibili senza la voce del soggetto parlante però parliamo di corrispettivi per farvi capire come si gestisce il rischio perché statisticamente i corrispettivi la determinazione del corrispettivo incide molto sulla possibilità di fare l'operazione un aspetto è la freedom to operate un altro aspetto è la la determinazione dei corrispettivi ora se io do a un signore un paio di scarpe mi aspetto che questo mi paghi il prezzo se io gli do la tecnologia le cose possono cambiare perché la tecnologia va dentro le scarpe e quindi va in tante tante paia di scarpe e quindi il modello può può cambiare e diciamo nella prassi c'è grandissimissima varietà di forme ci sono anche delle vendite che sono remunerate a royalty come se io mi vendo l'appartamento e uno mi continua a pagare il canone così come ci sono delle royalty dove come se io affitto l'appartamento ma quello mi paga il prezzo una volta quindi c'è libertà ma normalmente normalmente tutti i rapporti di licenza che è la forma poi principale di sfruttamento prevedono delle royalty perché prevedono le royalty lo sappiamo perché noi dobbiamo gestire un rischio di tipo commerciale e nessuno è disposto a riconoscermi un prezzo se prima a riconoscermi in qualsiasi corrispettivo se prima non è sicuro che questa cosa sul mercato abbia minimamente senso allora il modo per allineare siamo sempre là allineare gli interessi tra il proprietario della tecnologia che ha fatto ricerca e l'impresa che me la porta sul mercato è dire che tutto o una parte significativa dei corrispettivi del licenziante è commisurata al successo della tecnologia quindi io ti pago un pezzettino forse ti pago un'opzione ti pago le milestone se è una cosa ma il grosso tu te lo devi aspettare dal successo commerciale della tecnologia ci aspettiamo tutte e due da là fino a quel momento abbiamo investito tu prima io dopo e poi ci dividiamo questa come ce la dividiamo questa cosa e là ovviamente subentrano i problemi i problemi tecnici perché se noi guardiamo quello che succede sul mercato ecco quello che succede sul mercato è che prima dell'introduzione dell'oggetto sul mercato l'azienda investe deve completare lo sviluppo e quindi investe quindi perde qua abbiamo sempre il tempo e i soldi e le variabili sono sempre quelle che poi forse sono la stessa cosa ma l'azienda perde poi c'è un momento in cui se non è l'azienda che perde perché la ricerca l'ha fatta l'ente è l'ente che ha investito in ricerca e sviluppo e poi c'è un momento in cui questo risultato viene dato in licenza a qualcuno perché questo risultato ability la produzione oppure vada in tanti prodotti la mela rispetto alla varietà vegetale il farmaco la molecola dentro il farmaco il software dentro il dispositivo quale che sia allora diciamo la situazione ideale che però non c'è quasi mai è che nel momento in cui stipuliamo il contratto il giorno dopo l'azienda vada sul mercato e produce e vende no? in realtà sappiamo benissimo proprio perché lo sviluppo può essere ancora lungo che tra la conclusione del contratto la licenza e il momento in cui il prodotto il primo prodotto va sul mercato può passare anche tanto tempo anche anni pensate al prodotto farmaceutico comunque c'è un momento in cui questo benedetto prodotto va sul mercato e sulla base di quel prodotto l'azienda fa delle vendite che auspicabilmente crescono nel tempo poi il prodotto diventa obsoleto e le vendite iniziano a decrescere oppure si portano pensate al prodotto farmaceutico si portano su dei livelli costanti purtroppo certe malattie non scompaiono e le vendite sono sempre alte per produrre e vendere a questo livello l'azienda sostiene dei costi che sono dei costi diciamo crescenti al crescere dei volumi se fa delle economie di scala crescono in maniera non proporzionale cioè diminuiscono un pochino all'aumentare dei volumi ma l'azienda fa tutto questo perché? perché si aspetta che ci sia una differenza tra i costi operativi e anche un pezzo dei capex e le vendite che realizza e questa fetta qua questo triangolo qua è il profitto è quello che motiva tutto tutto quanto l'azienda queste cose le sa e queste cose le impara più o meno conosce il mercato quindi come funziona la royalty la royalty funziona perché l'azienda promette per ogni livello di produzione che realizza nell'unità di tempo desiderata tipicamente ogni anno per ogni livello di produzione per ogni periodo di riferimento della licenza su un pezzetto del prezzo di vendita l'azienda paga qualcosa e sottolineo qualcosa al titolare della tecnologia e dice guarda è come se tu in realtà mi stessi dando gli ingredienti un ingrediente quello più importante e quindi io per ogni chilo di pane che faccio ti pago siccome nel pane che faccio c'è un pezzetto della tua ricetta ti do un pezzetto non del pane perché l'ho venduto ma del prezzo che ricevo in cambio ovviamente dal punto di vista dell'azienda la royalty che cos'è? è una cosa che si aggiunge ai costi è un costo variabile nella sua versione diciamo normale è un costo variabile perché varia in funzione dei volumi e quindi si somma ai costi operativi e l'effetto della royalty lo vedete visivamente quello spicchione di profitto che prima c'era adesso si assottiglia è vero che è un costo variabile ma è un costo e quindi non è che le aziende muoiano dalla voglia di pagare delle royalties né di pagarle alte cioè la royalty è un meccanismo di condivisione del rischio però è anche un meccanismo diciamo in qualche modo non dico in viso no? ma fastidioso perché è una tassa il termine lo dice è una tassa che io pago a un a un signore che una volta ha avuto una bella idea e prego una domanda tecnica sulle royalties genere quant'è la percentuale di royalties cioè nel senso su un prodotto X qual è il corrispettivo e soprattutto ci sono cioè è una durata di tempo limitata per legge oppure può durare all'infinito no allora queste sono in realtà non sono due domande sono una ventina di domande tutte insieme allora prima cosa io prima ho detto qualcosa non una percentuale qualcosa perché le royalties possono avere configurazioni diverse mi spiego il meccanismo di remunerazione tipico questa è la formula generale no quello che chiamiamola chiamiamola royalty in tutti i casi però la royalty che prende il licenziatario è data dalla moltiplicazione di una di un rate per una base dove normalmente la base sono le net sales cioè il fatturato che io realizzo con quel prodotto e il rate è normalmente una percentuale quindi il net sales è prezzo per quantità la royalty è 3% per prezzo per quantità uguale a quello che porta a casa sul sul periodo diciamo sull'anno no perché si calcono anno per anno perché dico normalmente perché e nella prassi questo ha molto senso uno perché le vendite nette il fatturato netto è facile da accertare sta nelle scritture contabili e la percentuale diciamo siccome varia no col volume è più diciamo è più aderente all'andamento della cosa se io dicessi che tu mi dai 5 euro questa è quella che si chiama la royalty percentuale questa è quella che si chiama la royalty per unit no se tu mi dai 5 euro per ogni oggetto che vendi se il prezzo dell'oggetto decresce e quello mi chiede sempre 5 euro è possibile che a un certo momento guadagni più lui di me quindi normalmente la royalty è percentuale e normalmente la base di calcolo è il fatturato netto dei prodotti che incorporano la proprietà intellettuale però ci sono delle varianti una è la royalty per unit e poi questa grandezza può essere variamente sostituita è chiaro che se la sostituisco con delle grandezze più opache faccio fatica a calcolarlo cioè se mi dicessero è il 2% del profitto operativo del primo margine il primo margine è una grandezza molto grezza perché butto dentro tutti i costi il primo margine è piccolo l'1% di una cosa piccola è microscopica chiaramente questo non va bene ecco perché nella prassi si tende a privilegiare questo aspetto come si determina questo no quanto dico 5% 7% 18% tenete sempre conto che più è grande quella percentuale più io gli sto rosicchiando del margine quindi ci sarà una resistenza e non c'è una regola fissa però ci sono degli standard di mercato ci sono anche delle società che fanno degli studi di benchmark per dire no royalty rate royalty range Biro Van Dijk uno può dire guarda sto negoziando un contratto per una molecola nel settore della cardiopatia eccetera quanto è la royalty la media la mediana e quindi uno negozia in quell'intorno tenete conto che se il mercato finale di riferimento è un mercato consumer con dei grandissimi volumi la percentuale diminuisce no le tecnologie quelle 3G 5G su questi cosi viaggiano sotto l'euro nei settori delle scienze della vita salgono io non so se si può dire che un 5% è un valore medio perché ci sono dei casi che è 16 ci sono 3,5 guardate ho fatto uno studio recentemente nel settore dell'energia elettrica fotovoltaico nel 2021 la royalty percentuale media era del 5,9% ogni settore ha le sue cose però ci sono degli studi e quindi uno si orienta sulla base sulla base di quello è chiaro che se spara una cosa fuori standard il licenziatario dice no perché se questa curva qua sta sopra questa io perdo e non posso perdere causa tua però rendere oggettiva la negoziazione facilita l'incontro varianti tenete conto che questo momento potrebbe essere spostato molto in qua no? prego se c'è un accordo prima ancora nel caso in cui c'è una collaborazione ad esempio quindi uno vuole pubblicare un brevetto si può fare un accordo su quelle che può essere la possibile licenza prima ancora di pubblicare il brevetto sì sì assolutamente quindi rientro un tipo in accordi cioè nel senso tipo tra inventore azienda assolutamente qual è il problema in quel caso che l'azienda non sa ancora se il brevetto c'è se ci sarà se verrà concesso quindi il rischio di protezione è più alto e l'azienda dice io questo rischio me lo prendo ma ti pago pochissimo no? non ti pago nulla oppure ti pago a milestone quando arriva il rapporto di ricerca se è positivo ti do x se è negativo ti do x-5 se poi facciamo decido di passare le fasi internazionali se nazionalizzo eccetera ci possono essere delle remunerazioni di nuovo a milestone per tenere allineato perché se no il ricercatore dice sì sì ti faccio il brevetto scrivere a qualsiasi cosa poi se ne va e l'azienda si ritrova quindi il meccanismo delle milestone è possibile anche in questi casi ovviamente ricordatevi sempre quel freccione più siamo a sinistra più è difficile fare un accordo che non sia parametrizzato a qualche altra cosa più sono avanti più arrivo a anche la royalty anche diciamo la royalty è più alta dove il prodotto è più maturo non c'è niente da fare quindi se io se questo momento di entrata sul mercato è ragionevolmente vicino al momento in cui noi firmiamo la licenza vuol dire che la tecnologia è molto matura e io sono legittimato a chiederti di più se passa molto tempo perché sta investendo correttivi qua vado un po' di corsa per dirvi le cose più importanti correttivi che si possono sempre utilizzare con questo obiettivo di allineamento uno non è detto che questa curva delle vendite abbia questo andamento potrebbe essere piatta potrebbe essere la famosa S potrebbe avere un picco e poi decadere potrebbe essere lenta lenta e costante eccetera eccetera allora per mantenere l'allineamento si utilizza una royalty di tipo percentuale ma di tipo o progressivo o regressivo cioè che sale o che scende in maniera più o meno proporzionale all'andamento delle vendite quindi se la vendita se le vendite hanno un andamento lento all'inizio io ti chiedo meno così tu recuperi prima gli investimenti fatti e poi man mano che sale e quindi ci potrebbero essere delle royalty che prendono in considerazione livelli scaglioni diversi la royalty a scaglioni serve a quello la royalty progressiva o regressiva serve a quello ti do il 3% fino a che non fatturi almeno X quando fatturi sale oppure scende questo serve è frutto della negoziazione e serve non c'è qua non ci sono norme imperative che impediscono è tutto frutto della negoziazione c'è solo un paletto e questo ve lo dico ed è dato dal fatto che in alcuni ordinamenti non in Europa per esempio negli Stati Uniti non si possono pattuire le royalties quelle che si chiama royalties post expiration cioè le royalties che il licenziatario accetta di pagare al proprietario anche dopo la scadenza dei brevetti supponete che si faccia questa cosa e in un certo momento qua il brevetto scade quindi il prodotto è sul mercato ma non c'è più il brevetto il licenziatario ha accettato questo rischio lo sapeva però diciamo io sono sul mercato per primo a un certo punto la curva declinera ma per allora io avrò fatto i miei soldi se non c'è più il brevetto teoricamente le royalties non si dovrebbero più pagare perché non c'è più l'esclusiva però succede alle volte soprattutto nella dinamica della negoziazione che i licenziatari chiedono delle royalties molto alte dice voglio il 5% guarda il 5% sei ancora nel range di mercato però è proprio la parte alta della forchetta ti posso dare 4 e 1 4 e 1 è proprio verso la parte bassa ti do 4 e 1 ma te lo continuo a pagare per un certo numero di anni dopo la scadenza post expiration royalties teoricamente io sarei libero di non pagarti più ma contrattualmente mi sto vincolando a farlo in maniera tale che tu accetti il 4 e 1 per me va bene così negli Stati Uniti questa cosa non è possibile perché si dice che restringe la concorrenza c'è stato anche un caso recente della Marvel però è chiaramente un caso sbagliato nel resto del mondo questa cosa si può fare la royalty post expiration che serve ovviamente di nuovo ad allineare nel momento in cui si fa l'accordo l'interesse tra le due parti il licenziatario che dice io sono veramente interessato ma non ti posso dare tanto però posso prolungare questo momento in cui magari perché il mercato sarà ancora la domanda sarà ancora alta quindi ci può essere una royalty una royalty regressiva ci può essere una royalty progressiva ci possono essere royalty a scaglione ci sono e questo è abbastanza diffuso sempre come meccanismo di allineamento degli interessi quelle che si chiamano le royalty minime o il minimo garantito quello che volgarmente chiamiamo minimo garantito che sono royalty di tipo running cioè si applicano anno per anno ma sono fatte in questo modo cioè si dice la base di calcolo sono sempre le vendite e la royalty è sempre un x% supponiamo ma tu mi paghi ogni anno x come minimo x indipendentemente dal fatto che 5% moltiplicato le vendite nette mi dia x cioè mi garantisci che mi dai un tot che per te a questo punto diventa un costo fisso perché se tu non produci comunque mi devi dare x se produci per meno di x comunque mi devi dare x se produci per più di x io te lo sconto da quello che tu mi devi dare no? se ho ricevuto 5.000 e la royalty per quell'anno è 35.000 ho diritto alla differenza ma se la royalty minima è 5.000 e tu hai fatto 4.000 mi dai sempre 5.000 se hai fatto 0 mi dai sempre 5.000 perché si utilizzano i minimi garantiti? perché il minimo garantito è un costo fisso per il licenziatario cioè ogni anno sa che mi deve pagare quello e l'unico modo per evitare che il costo fisso si sommi ai costi operativi di periodo variabili e riduca il margine è produrre è espandere la produzione perché vuol dire che quel costo fisso si ripartisce su tante diverse unità e quindi la royalty minima si mette per essere sicuri che il licenziatario non prende la licenza e poi non la utilizza ma la prende e produrrà almeno quanto basta per far sì che quei 5.000 per lui non siano una perdita questo è il meccanismo del minimo garantito per il licenziante è una cosa gradevole no? per lui dici ma senti sì dividiamo il rischio commerciale però intanto in realtà lo si fa perché io voglio io licenziante voglio scongiurare il fatto che questo signore che sembra tanto bello gentile e serio lo stia acquisendo la tecnologia solo per motivi difensivi cioè se la prende per non darla a un altro e poi non la utilizza tant'è che addirittura mi dice io gli ho chiesto 7% io gli ho detto sì sì 7% tanto sapeva che fa 0 e 7% di 0 è un numero impossibile allora dico senti 7% ma mi dai delle royalties garantite io mi metto diciamo intanto mi garantisco che qualcosa entra e poi ti do l'incentivo a produrre chiaramente più alto è il minimo garantito maggiore è l'incentivo a produrre però più alto è il minimo garantito più è probabile quello anche essendo d'accordo in linea di principio non me lo riconosca quindi c'è un no un bilanciamento da fare prego è una start up che all'inizio magari ha pochi fondi sta nascendo chiedere questo minimo garantito che magari sono 3 5 7 10 mila all'anno quanto è fair? ma allora diciamo non la metterei mai sul piano della fairness perché diciamo dal mio punto di vista è fair che mi paghi e da quel punto di vista è chiaro che se io voglio incentivare potrebbe valere la stessa cosa per una piccola e media impresa non una start up è un imprenditore che ci crede sta investendo io posso decidere di incentivarlo in qualche modo dicendo vabbè facciamo così per i primi due anni non mi paghi nulla poi mi paghi un piccolo minimo garantito poi cresce cioè la bellezza di questi meccanismi è che io li posso modulare in maniera tale da allineare gli interessi nel tempo perché qua parliamo di guardate cioè questo è un caso teorico infatti lo fanno gli economisti non è un caso reale è un caso teorico perché questo punto potrebbe stare anche qua giù no? la vita residua del brevetto potrebbe restringersi quindi l'azienda potrebbe dirmi guarda che io ci metto tanto ad arrivare sul mercato ma poi il brevetto ha 4 anni di vita residua quindi io in quei 4 anni devo recuperare tutto quanto quello che c'è da recuperare non ti posso pagare una royalty grossa come? tant'è che però almeno i pharma hanno i certificati supplementari di protezione si può estendere di 5 anni per recuperare un pochino ma in tutti gli altri settori non è così e quindi c'è un tema di più che di semplicemente di fairness direi di allineamento degli interessi per cui se sto licenziando a General Electric probabilmente non mi faccio nessuno scrupolo se è una piccola e media impresa del territorio posso avere un occhio di riguardo se è una start up magari posso chiedergli un pezzo di capitale sociale no? oggi si può fare il work for equity e gli dico senti non c'hai nulla dammi un pezzetto di capitale vi ricordo che la mia amica Katie Cook che era la capa dell'OTL di Stanford dell'Office of Technology Licensing quando venne creata Google e venne dato in licenza il primo brevetto sul PageRank Google era una start up come tutti e se non ci abbiamo nulla ti diamo un pezzetto di no Katie Cook si prese un pezzetto di di capitale di Google che alla quotazione valeva 336 milioni di dollari questo è quello che ha incassato no Katie Cook aveva questo sorriso diciamo così funziona noi in Italia non lo facciamo lo facciamo ancora poco però uno dei corrispettivi possibili è equity ti do magari non equity puro perché se no è tutto il rischio che io mi tengo però un po' di equity un po' di royalty un po' di equity un po' di fisso di minimo garantito eccetera c'è massima libertà l'obiettivo è sempre quello di mantenere allineato il licenziatario all'impegno che si è preso di completare lo sviluppo e arrivare sul mercato il prima possibile quando lo aspetta ovviamente la viene in vita allora è l'1.5 e ci dobbiamo interrompere voi avete il pranzo io vado a fare lezione a Brescia e vi lascio ovviamente ci sono le slides che diciamo sono minimamente intellegibili e credo che poi possiate unire i puntini perché immagino che molte cose che abbiamo detto oggi risuonino con quello che avete sentito ieri e sentirete oggi pomeriggio va bene? Grazie mille Grazie